Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com Amici di Scratch, ben ritrovati! Allora, intanto facciamo subito un preambolo. Parte Scratch, si è stato in Val di Sole. Intanto grazie per essere con noi Massimo Ghirotto. Grazie a voi dell'invito Nicola. Sì, sì, sono stato in Val di Sole e devo dire che è stata un'esperienza così da spettatore abbastanza particolare. Entusiasmante da una parte e poi andremo anche a fare qualche riflessione. Sì, ma vedere un campo di ciclocross, un percorso di ciclocross in nevato bianco è qualcosa che rimane nell'esperienza, anche negli occhi delle persone e di tutti quelli che erano lì. Noi abbiamo fatto un bello speciale con delle interviste in esclusiva, quindi diamo la linea a Tina che ci presenta Ilenia Lazzaro. Grazie Nicola per avermi dato la linea. Salutiamo soprattutto anche Massimo Ghirotto che è in studio con te e che ha partecipato volentieri alla trasmissione e soprattutto all'esperienza grandissima di Vermiglio di cui andremo a parlarvi in questo speciale dedicato alla Val di Sole e soprattutto alla prova di Coppa del Mondo di ciclocross. Una prima prova veramente eccezionale, al mezzo alla neve, alla gente, quasi 3.000 le persone presenti lungo il percorso tra sabato quando si sono disputate le prove libere e domenica le due grandi corse dedicate ai fenomeni del ciclocross sia del mondo femminile che del mondo maschile. Ringraziamo soprattutto anche la Federazione Ciclistica Italiana, la nazionale, che ha convocato ben 25 atleti ovviamente tra le donne e tra gli uomini perché altrimenti ci sarebbero stati presenti non tantissimi atleti del resto non è facile correre sulla neve, è stata un'esperienza davvero unica e indimenticabile Certamente tutti sperano che questa prova possa servire a convincere il CIO ad inserire anche il ciclocross come specialità olimpica. Certamente non sarà una cosa semplice anche perché il ciclocross inizia in Italia come all'estero a settembre e quindi in molti casi c'è ancora il sole e si corre anche addirittura sulla spiaggia con 20 gradi perché insomma pensare che ci sia la neve è davvero impossibile però insomma sognare non è impossibile per cui l'esperienza è stata veramente incredibile con un Van Aert che era scatenato sulla neve, si arrampicava come se fosse veramente uno scalatore se stesse facendo sci alpinismo. Ricordiamo la grande vincitrice Femme Van Aert, insomma un dominio straniero però grandissima Eva Lechner che è riuscita a piazzarsi al quarto posto, una voz davvero incredibile noi l'abbiamo vista mentre andava alla partenza della corsa prima delle prove libere in bicicletta da sola con lo zainetto senza nessun accompagnatore al seguito, insomma ripetiamo Van Aert grandissimo Pitcock campione ormai indiscusso che ha provato la prima bici da cross dedicata a lui da un'azienda trevigiana insomma è stato veramente il gota del ciclocross, corso sulla neve e andiamo a vederci le interviste di Ilenia Lazzaro e anche un mio piccolo contributo Amici di Scratch, il grande giorno è arrivato, siamo a Vermiglio per questa Coppa del Mondo di ciclocross, una data che resterà sicuramente nella storia, non sappiamo ad oggi quello che succederà non sappiamo se diventerà sport olimpico ma soprattutto dobbiamo dire una cosa, se qualora diventasse sport olimpico un piccolo pezzo di questa strada passerebbe sicuramente da Vermiglio, andremo a scoprire quello che c'è dietro una Coppa del Mondo, quello che c'è dietro una Coppa del Mondo un po' particolare come questa sulla neve ricordiamo la prima edizione in assoluto con manto e percorso completamente innevato andiamo a spiegare anche un po' il percorso, un percorso largo, standard da Coppa del Mondo quindi standard dell'Unione Ciclistica Internazionale, un percorso però anche molto bello un percorso tecnico, un percorso dove le condizioni del tempo la faranno da padrone ieri abbiamo visto con la prova del percorso una neve bella morbida, una neve dove è molto simile anche alla sabbia e gli atleti hanno scelto delle coperture molto simili a quelle che normalmente scelgono per gare sulla sabbia come Zonoven per esempio, oggi però attenzione perché fa parecchio freddo e bisognerà vedere se alle 13.30 quando scatteranno le donne elite, le donne open, ci sarà ghiaccio oppure se il percorso andrà un po' un po' a rovinarsi quindi a diventare un po' più scivoloso senza dubbio vincerà il più forte, quello più bravo e quella più brava a guidare quindi godetevi questo spettacolo, ricordo, tappa di Coppa del Mondo da Vermiglio Siamo con Fabio Sacco della PTI Val di Sole, Fabio, Vermiglio quindi Val di Sole ospita un altro grande evento direi questo passa nella storia, voi avete organizzato, avete ospitato tantissimi mondiali di mountain bike e non solo, siete l'eccellenza anche per alcuni sport invernali però qua oggi si fa la storia Sì, oggi è una giornata speciale e siamo anche un po' emozionati tutti perché dopo tanti anni di lavoro sulla mountain bike, come dicevi, dopo tre mondiali anche qui la location di Vermiglio ha ospitato già sia il mondiale di trial nel 2016 che la compagnia del trial abbiamo deciso davvero di raddoppiare insieme a tutto il Trentino questo grande evento e quindi siamo alla prima assoluta del ciclocross in Val di Sole e in Trentino su questo inedito percorso interamente innevato la sfida è nata insieme agli amici dell'UCI di Flanders Classics che sono stati i nostri ospiti anche al mondiale di quest'anno ad Aulasa con il mondiale di mountain bike che è stato un grande successo e insieme abbiamo costruito questa gara unica perché è la prima volta in cui si corre in un territorio alpino con questa neve ci sono dei precedenti in Belgio con qualche centimetro di neve ma qui stiamo parlando davvero di piste da fondo quindi di un'area dove si va con gli sci invece oggi questi grandissimi campioni la affronteranno con le biciclette ed è un raccordo, è anche un'idea di portare insieme la nostra offerta estiva della mountain bike con quella invernale dello sci per dare il messaggio che in Trentino, in Val di Sole la vacanza non è stagionale è un luogo dove si sta bene tutto l'anno un luogo dove si sta bene tutto l'anno noi siamo spesso in queste zone, abbiamo coperto non solo i campionati del mondo ma abbiamo coperto anche la top d'Olo, ma insomma Madonna di Campiglio ad esempio quindi Trentino che vuole essere eccellenza nel mondo delle due ruote ma mi dicono che ci sono delle novità per il prossimo anno che riguardano anche il gravel Sì, noi tutto questo lo facciamo sempre con una doppia logica ovviamente c'è lo sport, c'è la parte sportiva, la gara su questo il Trentino penso non abbia da invidiare nulla e nessun altro territorio per come si sta posizionando, per ospitare competizioni delle due ruote ma ogni gara, ogni evento sportivo è collegato al prodotto turistico e quindi è collegato a quello che gli appassionati possono vivere e non soltanto i professionisti o i pro ma proprio tutti coloro che si avvicinano a queste discipline questo vale per la mountain bike d'estate quindi il senso di ospitare i mondiali in Val di Sole la Coppa del Mondo tutti gli anni è legato allo sviluppo del prodotto dell'enduro, del down, del cross country e di tutte le forme che sta assumendo questa disciplina e l'idea del ciclo cross è collegata anche questa all'idea dello sviluppo di un prodotto perché noi vorremmo essere un po' i primi a proporre questa idea di alpine gravel quindi di un prodotto gravel che sta assolutamente crescendo come numeri, come interesse il nostro territorio si presta abbiamo tante strade forestali e circuiti diciamo collaterali rispetto ai sentieri più tecnici, più adatti alla mountain bike o alle piste ciclabili e all'asfalto adatti alla strada ci sono dei percorsi di fondo valle ma anche in quota interessantissimi su sterrato e vogliamo costruire per primi un prodotto gravel alpino quindi l'idea di ospitare la Coppa del Mondo di ciclo cross va esattamente nella direzione poi di proporre un prodotto che sia davvero per gli appassionati di questa disciplina beh io vi faccio i complimenti perché di solito siete sempre non dico un gradino più avanti di tante altre realtà ma avete l'occhio lungo bisogna anche ricordare che è anche semplice arrivare qui in questa zona avete un trenino che io chiamo l'abbiamo chiamato spesso quando veniamo qua un trenino che è per il ciclista perché si può anche portare la bici e tra l'altro so di per certo che alcuni turisti e spettatori verranno qui oggi proprio in treno quindi c'è la possibilità veramente di arrivare sia ad Aulasa dove c'è questo bellissimo bike park che in queste zone comodamente in treno ma perché la logica è quella che non è soltanto divertimento e che è pure molto importante ma noi vogliamo comunicare il messaggio che l'esperienza qua è un'esperienza rigenerativa e di incontro l'outdoor non è solo sport è anche qualcosa che tocca più la nostra anima è la nostra voglia di metterci in contatto con la natura e per farlo è anche importante avvicinarsi alla natura con rispetto e quindi adottando le modalità anche di mobilità più sostenibili in questo siamo fortunati c'è un treno storico che esiste da tantissimi anni che abbiamo potenziato con delle linee bus che dalle stazioni possono permettere come oggi di arrivare qua a Vermiglio arrivando fino a Mezzana con il treno e poi prendendo le navette che abbiamo organizzato e questo vale sia d'inverno per arrivare agli impianti da sci con il treno e poi gli ski bus sia d'estate con i bici bus e tutte le forme di trasporto bici sul treno e sulla mobilità quindi l'idea è venire a vivere una vacanza outdoor i bici sugli sci entrano in contatto con la natura in maniera autentica e anche nel rispetto dell'ambiente noi oggi ci godiamo questa bellissima giornata ma l'appuntamento te lo do quando scioglie la neve vengo a fare un gravellando con Ilenia grazie e ti aspettiamo grazie a tutti grazie a tutti fuori strada mountain bike cosa ci fai qua nel ciclocross? siamo qui insieme a Daniele come pensapete ha esordito con me con la mountain bike sono qua sono qua a dare una mano a tutta la nazionale bella una bellissima esperienza bellissima organizzazione sono veramente contento di essere qui non solo a dare supporto alla nostra squadra ma anche come esperienza perché sembrerebbe che sia la prima volta che si affronta una gara del genere vedo i ragazzi belli impegnati sul percorso stanno cercando nuove traiettorie perché è un terreno che continua a cambiare in evoluzione quindi è una novità un po' per tutti siamo curiosi mi piace questa novità e questo scambio anche tra voi citi anche perché insomma dati alla mano diciamo che l'80% dei crossisti al momento viene dalla mountain bike quindi è anche un modo comunque per lavorare insieme e una disciplina non ostacola l'altra se invece si riesce a collaborare bravissima bravissima infatti è una cosa molto importante soprattutto già dalle categorie giovanili che è sempre parlato della multidisciplina e quindi fa veramente bene perché passare da una bicicletta all'altra è tutta esperienza è bagaglio di esperienza che entra e quindi poi ti troverai in futuro poi chi inizia con la mountain bike chi inizia con il ciclo cross o strada poi da grande man mano che crescono scelgono la strada a loro più adatta comunque siamo qui siamo qui a collaborare non solo tra noi fuori strada ma ho avuto anche contatti da Daniele Bennati per anche trovare qualche biker che faccia un po' di esperienza su strada quindi è una bella annata sarà beh sarà sicuramente una buona annata però Daniele vieni qua vicino intanto dobbiamo trovare una bici a Mirko perché voglio vederlo anche lui sul percorso come taglieri se venivi al ritiro a Genova lo vedevi ha pedalato con noi con una bici da ciclo cross quindi è importante quanti anni ci hai messo? era anche tu un po' di anni che non facevi ciclo cross? vent'anni vent'anni lo facevo da giovane facevo sia pista ciclo cross ho fatto sempre di tutto a me piaceva veramente variare con lo sport non solo in bici ma anche in scid alpinismo facevo proprio di tutto in questo periodo invernale poi a gennaio mollavo tutti gli sporti invernali e come tutti sanno ho continuato poi tutta la stagione sulla bici da strada noi abbiamo corso tante volte sulla neve se ti ricordi e tu hai corso hai vinto anche un mondiale col ghiaccio è un punto di partenza secondo te a che punto siamo per questo sogno che è un po' il sogno di tutti gli amanti del ciclo cross cioè di vedere il ciclo cross all'interno di un programma olimpico guarda io sono l'ho detto ieri sono di parte ma sono fiducioso perché se l'UCI fa una prova di Coppa del Mondo in queste condizioni vuol dire che i discorsi sono già avviati e credo questo sia il test che poi faccia pendere l'ago della bilancia da una parte e dall'altra io ieri ti dico noi abbiamo già fatto altre gare sulla neve quando ero atleta ma credo che questa manifestazione questa Coppa del Mondo ci porti in futuro delle belle soddisfazioni ritengo per un tecnico come me del ciclo cross specialità che non è olimpica io incrocio le dita mentre lo dico spero che un giorno questo diventi a breve e lo incrociamo tutti buon lavoro ragazzi a voi altrettanto a dopo ciao grazie come sta andando Gioele questi primi mesi con il nuovo commissario tecnico Daniele Pontoni ma con Daniele ci sono delle regole abbastanza rigide però c'è un buon clima è nazionale io sono stato con lui solo all'europeo quindi ci sarà modo adesso in questa trasferta ma anche poi nel proseguire la stagione spero di fare parte della nazionale e di conoscerlo sempre meglio e man mano ci si conosce ognuno sa dove si può arrivare dove ci si può spingere e comunque si sta bene è da continuare così che si sta lavorando e Grazie a tutti. Grazie a tutti. In prova percorso pochissimi atleti sono riusciti ad affrontare la salita tutta in bici. Uno, un nome a caso, è l'Iserbit, leader di Coppa del Mondo. Attenzione perché anche nella gara femminile sicuramente questo sarà uno dei punti che potranno e potrebbe fare la differenza. Insomma, freddo, gelo, neve farinosa. Jacop, Durigone, ieri hai fatto le prove percorso, stamattina lo stesso. Oggi è un po' più freddo. Sì, dicevano che oggi si scalda ma è ancora più freddo. Il percorso è molto simile a ieri, magari oggi si fa un po' più fatica. Però è bello e, come detto ieri, è importante stare lucidi e poi vediamo. Ecco, dal punto di vista tecnico, la scelta delle gomme, la scelta delle ruote, quanto gonfiarle, quali sono stati i cambiamenti rispetto, ad esempio, alla corsa che avete fatto a FAE sotto la pioggia e con il fango? Sì, qua io uso ruote da fango e vanno molto bene. Rispetto a FAE ci abbassiamo ancora un po' più con le pressioni perché è simile alla sabbia, devi galleggiare sulla neve. Io corro 1,3 e a FAE correvo 1,5 e sì, ma non ci sono tantissime differenze. Il terreno è totalmente diverso, però nella scelta delle ruote così non cambia molto. Ecco, hai fatto la prova percorso. Il percorso com'è? Come ti sembra? Sufficientemente semplice, difficile? Intanto vediamo il commissario tecnico Daniele Pontoni che non possiamo dire che cosa ha fatto. No, rispetto a ieri magari è uscita qualche canalina in più, allora è diventato un po' più tecnico, però è molto simile a ieri, è molto tecnico e molto divertente. Ne valeva la pena? Sì, sì, no, valeva la pena fare questa gara, penso che a tutti piaccia e che oggi ci divertiamo tutti. Luca Bortoluzzo Meccanico, quali gli accorgimenti per i corridori della Nazionale, differenza tra fango, pioggia e neve? Oggi con gli altri meccanici e con Daniele si è deciso di montare dei tubolari da asciutto con la pressione 0,9 anterione, uno sul posteriore, accorgimenti sghiaccianti per le rotterine del cambio, per i pedali, per i movimenti centrali, che il grosso problema è sulle trasmissioni. Ne vale la pena? Sì, sì, ne vale la pena, ne vale veramente la pena, spettacolo bello, speriamo che duri anche per il futuro. Siamo con Thomas van der Spiegel, il main boss di Flanders Classic. Thomas, finalmente siamo nel giorno clou di questa Coppa del Mondo, soprattutto con una tappa inedita che so che tu hai evoluto fortemente. Sì, certo, siamo molto contenti di essere qua oggi, abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato bene insieme anche qua con Val di Sole e siamo contenti che oggi comunque ci sarà la gara di cui tutti parlano da settimane, anche in Belgio, dove guardano il paese del ciclocross, dove guardano questa gara comunque con tanta curiosità. Beh, tanta curiosità anche da parte degli atleti, ieri abbiamo sentito Marianne Voss, molto entusiasta anche lei, un percorso molto bello, molto tecnico, dove ovviamente verrà fuori un po' la capacità di guida dell'atleta. Sì, credo che è nuovo per tutti, anche per noi, siamo un po' nervosi comunque da giorni perché vogliamo far bene, abbiamo visto oggi, abbiamo visto ieri che gli atleti erano molto entusiasti, però avevamo anche qua a Dansut un corridore da lunedì per fare provini, per farci capire cosa potevamo fare, cosa no, perché non è facile mettere in piedi una cosa del genere. Flanders Classic, che ormai penso abbia puntato veramente molto bene sul ciclocross, da dove è nata l'idea? Io ho letto una tua intervista tempo fa, vuoi portare il ciclocross al 2.0, cioè a far vedere quanto è bello anche dal punto di vista televisivo. Dove è nato questo tuo amore per il ciclocross e perché hai deciso come Flanders Classic di prenderti comunque un grande impegno, quello di organizzare una Coppa del Mondo molto lunga e molto impegnativa? Credo che il ciclocross ha tanti vantaggi, è un prodotto televisivo molto attrattivo, abbiamo le stelle di oggi con Tom che abbiamo appena visto, con Wout, con Mathieu, ma anche con Marianne, dobbiamo approfittarne in questo momento, abbiamo questo momentum. Stiamo lavorando duro per mettere in piedi degli eventi mai visti, perché il cross in Belgio lo conosciamo tutti, il cross in Italia lo conosciamo tutti, però il cross ha bisogno di novità e credo anche qua, ma forse l'anno prossimo avremo ancora qualche sorpresa andando in posti dove nessuno si aspetta il cross. Credo che quello sia molto interessante, molto bello e che il futuro del cross sarà quello, di essere un prodotto molto bello in televisione, ma anche per i tifosi dove tu puoi andare a vedere gli atleti da vicino con tanta potenziale. E dal punto di vista olimpico a che punto siamo? Quali sono le tue speranze? Guarda, dobbiamo far bene oggi prima di tutto, perché parlare delle Olimpiadi è un'altra cosa che esserci e credo che oggi dobbiamo far bene, dobbiamo anche provare l'anno prossimo di averne più gare sulla neve e poi è un lavoro formale e informale a livello federazioni, a livello comitato olimpico, però il fatto che ne parliamo oggi è già il primo passo, poi vediamo nel futuro. Ma l'ambizione c'è, il sogno c'è e credo che con noi lo condividiamo con tante persone di andare alle Olimpiadi. Il sogno c'è, il sogno c'è e credo che con noi lo condividiamo con tante persone di andare alle Olimpiadi. Il sogno c'è, il sogno c'è e credo che con noi lo condividiamo con tante persone di andare alle Olimpiadi. Il sogno c'è e credo che con noi lo condividiamo con tante persone di andare alle Olimpiadi. Ti ho mostrato ottime abilità tecniche. Era la tua prima esperienza sulla neve? Ieri l'avevo provato e avevo trovato il circuito molto difficile. Oggi mi sono goduta la giornata, il record è andato molto bene, qui c'era molta più neve che in Belgio, ma mi sono goduta la gara. Sono partita rilassata e sono rimasta davanti dall'inizio alla fine. Quali sono le tue emozioni, la tua prima vittoria in Coppa tra le donne professioniste, tra le donne elite? Stai migliorando settimana dopo settimana. Sì, ogni settimana sta andando sempre meglio. L'obiettivo ad inizio stagione era il podio. Oggi ho vinto nella prima tappa sulla neve e sono veramente molto molto felice. Ti è piaciuta l'Italia? Sì, queste montagne sono bellissime. Ritornerò sicuramente con un'altra bici. Ero stata qui con la mountain bike, ho trovato sentieri molto belli con la neve, però è tutt'altra cosa. È molto freddo e temo un po' il freddo, quindi ritornerò sicuramente in estate. Grazie, grazie. Poi dalla seconda metà ho cambiato ritmo. Non mi aspettavo di arrivare a lottare per la vittoria. È stato un tracciato fantastico, una zona fantastica. C'era tanta gente qui a tifarci. Molto molto bello, molto emozionante. Pensi che il ciclocross sia pronto ad entrare nel programma olimpico? Spero in questo step in avanti per le Olimpiadi. Penso che il ciclocross sia molto entusiasmante. È corto, intenso e interessante dal punto di vista televisivo. L'unico punto da chiarire è sulla presenza costante della neve e del ghiaccio. Ma oggi abbiamo visto che tutto ciò può essere possibile. Molte stradiste stanno provando il ciclocross, Lorena Vibes, Lotte Copecchi, per esempio. Pensi che ora sia molto più visibile il fatto che può essere un ottimo allenamento se ben mixato? Un po' come fai tu e come hai fatto tu per tantissimi anni. Penso che queste ragazze giovani siano nate multidisciplinari. Combinano la strada con la pista, la strada con il ciclocross o con la mountain bike. E penso sia utile fare differenti discipline per migliorare, per crescere ancora, sia come atlete che come donne. Spero di vedere sempre di più ragazze e combinare il tutto. e spero di vedere più ragazze per fare una combinazione. Grazie. Grazie, grazie. Ancora una volta le tue capacità tecniche, oltre a una grande condizione, hanno dimostrato che sei sempre un'icona del ciclocross italiano. Eh sì, mi sono divertita oggi, era un percorso bellissimo e mi sono sentita molto bene. Ho spagliato un po' all'inizio, dove ho perso un po' la scia delle prime purtroppo e poi dopo mi sono ripresa un po' e ho recuperato un pochettino. Però un po' un peccato per quello perché comunque il podio era molto vicino oggi. Tifo italiano dà sempre una marcia in più? Eh sì, è stato veramente fantastico. Soprattutto su in cima, sul punto più alto, c'era un tifo che era spettacolare, che solo in Italia si può trovare quello. Grazie. Grazie. Silvia Persico. Silvia, a freddo, non a caldo. Le tue impressioni su questa prima esperienza di Coppa sulla neve? Ma diciamo una gara un po' strana e niente, sono caduta non so quante volte, ma credo dieci forse, minimo. Però dai, niente divertente, diciamo che era un po' pericoloso, infatti oggi volevo appunto non rischiare troppo in vista degli appuntamenti. Secondo te, visto che un uccellino ci ha detto che prossimamente, il prossimo anno anche, verranno riproposte più tappe sulla neve, a che punto stiamo per il ciclocross, per avere la possibilità di entrare come disciplina olimpica e quello che potrebbe cambiare in un atleta che fa ciclocross, avere un obiettivo olimpico? Beh, sicuramente, io spero appunto che presto diventi disciplina olimpica e non lo so, diciamo che forse adesso è ancora un po' presto, però dai, speriamo che il prossimo anno, come hai detto tu, ci siano più tappe e niente, per gli obiettivi, diciamo che avere un obiettivo così importante è qualcosa di forte e anche mentalmente ti rafforza e appunto spero vivamente che diventi appunto una disciplina olimpica. Rebecca Gariboldi, sei contenta? Il tuo miglior risultato in Coppa del Mondo? Sì, sono davvero felice, sono felice di aver corso qui in Val di Sole e felicissima del mio risultato, non sapevo cosa aspettarmi bene prima della gara, era un grande punto di domanda per tutti, cioè ho visto anche le campionesse comunque che studiavano bene il percorso, che nessuno sapeva bene che copertone utilizzare, insomma, diciamo che le risposte che ho avuto sono state molto positive, quindi sono davvero contenta. Cosa può significare correre sulla neve e si auspichi di vedere un ciclocross sempre più importante dal punto di vista mediatico, perché in effetti questa tappa ha veramente richiamato l'attenzione mediatica anche extra settore? Sì, assolutamente, sai, essendo la prima volta comunque che si corre in queste condizioni, anche il pubblico secondo me aveva questo grande punto di domanda e che non sapeva cosa aspettarsi. Sicuramente è davvero spettacolare, cioè il ciclocross ha la fortuna di essere nel giro di diciamo uno spazio ristretto, di poter essere visto e come è fatto qui poi la conformazione del territorio si presta molto bene e sono convinta che è un format che può essere assolutamente portato avanti. Chiaramente il ciclocross non è solo questo, però qualche tappa in queste condizioni, assolutamente. Lucia, prima esperienza in Italia in Coppa, è stata bene, sei giovanissima, le tue emozioni oggi? È stata veramente una gara bellissima, appunto era la mia prima gara poi in Italia in Coppa, poi anche sulla neve in questo nuovo percorso. E peccato per l'ultimo giro ero terza delle Under 23, ho perso la posizione ma va benissimo così, è solo esperienza e sono contenta. Stai migliorando settimana dopo settimana, quanto conta comunque essere in una squadra italiana che fa però un calendario a livello internazionale? Eh, conta tanto, io lo dico sempre che quest'anno sono veramente fortunata ad avere questa squadra che mi permette di fare tutte queste esperienze all'estero perché penso che è lì dove si cresce e dove appunto si fa più esperienza che poi servirà in futuro e infatti ringrazierò sempre la mia squadra e anche le mie compagne che ci teniamo molta compagnia tutti i weekend e mi trovo veramente bene con loro. Il tuo cuore va più verso la mountain bike o verso il ciclocross? Il mio cuore apparterrà sempre al ciclocross, io lo dico sempre, questa disciplina mi regala veramente emozioni indescrivibili e spero di continuare a praticarla sempre. Grazie. Grazie a voi. Siamo con la nostra campionessa italiana Alice Maria Arzuffi, Alice oggi prima esperienza di Coppa sulla neve, tutte in Italia abbiamo corso almeno una volta con la neve. Le tue impressioni, intanto complimenti perché è stata molto bene oggi. Grazie mille, oggi è stata una gara veramente speciale e qualcosa di veramente diverso da quello che ho provato a fare fino ad ora nella mia carriera ma penso un po' per tutti perché correre una gara interamente sulla neve penso che non sia mai successo in passato perché ok sono capitate gare in cui magari c'era il fondo un po' ghiacciato o comunque dei tratti sulla neve ma non tutta la gara e sono delle condizioni un po' particolari, infatti io personalmente ho dovuto girare un po' sul percorso prima di prenderci la mano e capire un po' come dovevo guidare la bici e alla fine ho pensato un po' di guidare come quando guido sulla sabbia e sì, mi sono un po' sbloccata poi e diciamo che ho avuto a fare una gara nella decenza. Com'è correre in Italia con il pubblico italiano? Bellissimo, oggi veramente è stato bellissimo e sono veramente contenta che quest'anno abbiamo fatto qui questa Coppa del Mondo e di aver avuto comunque sul percorso tanta gente a vedere la gara, vabbè poi c'era la mia famiglia, i miei amici che vuol dire ancora di più per me nel mio personale però è stata davvero una grande esperienza. Vuoi lanciare un messaggio tu sei un po' alla porta colori, sei stata tra l'altro la prima a andare all'estero e a scegliere proprio di fare la ciclocrossista a tempo pieno diciamo che la strada la fai un po' in preparazione al ciclocross, vuoi lanciare un messaggio a tutte le ragazzine e i ragazzini che amano fare il ciclocross e che magari a un certo punto si trovano un bivio, magari consigliati male. Non lo so, cosa vuoi dirgli che è un po' quello che è capitato immagino a te e hai dovuto fare una scelta a un determinato punto della tua carriera? Beh io il consiglio che posso dare è quello di continuare a fare quello a cui uno piace di più. Io ho scelto di fare ciclocross perché a me le gare di ciclocross piacciono molto di più che le gare su strada o non lo so in pista o quello che è. Quindi io credo che sia giusto seguire un po' la propria passione anche magari andando contro quello che ci viene consigliato dagli altri perché in fin dei conti alla fine bisogna fare ciò che ci piace fare non quello che gli altri decidono e solo così alla fine si riescono a raggiungere i risultati. Immagino che anche per te vale l'hashtag ciclocross è sempre e costantemente una scelta di cuore alla fine. Sì 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 assolutamente. La mia carriera ormai è improntata sul ciclocross e lo porterò avanti fino a fine carriera questo è poco ma sicuro. E niente quindi sono contenta di aver fatto questa decisione. Grazie. Grazie a te. Artù fa un freddo cane oggi vero? Fa un freddo cane? Sì sì. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. La tua prima esperienza in Coppa in montagna e sulla neve? Fredda? È stato freddo? Sì davvero freddo. Quali sono le tue sensazioni nel post gara? È stato bello, davvero completamente diverso da quello che facciamo di solito. Probabilmente è più vicino ad un percorso su sabbia. Ha poi gelato ed è diventato parecchio tecnico. Direi un test passato a pieni voti. Questo cross sulla neve. Come ti trovi con la nuova bici? Nei prossimi giorni avrò ulteriori test ma direi che il feeling c'è. Anche oggi alcuni punti per la classifica generale. Quali sono le tue sensazioni? Oggi è stata una gara dura per via del fondo scivoloso ma sono molto felice di aver preso ancora punti importanti per la classifica finale. In Italia diciamo devastante. Una grande performance per te. Cosa significa vincere qui nella prima Coppa interamente sulla neve? Significa molto. Oggi si è scritto un pezzo di storia nel ciclo cross. Per la prima volta abbiamo potuto correre in uno scenario così. È sempre stata una mia ambizione essere allo start oggi e provare questa esperienza. Penso che tutti sappiano che amo correre in Italia. Amo il pubblico, il loro entusiasmo. Oggi è stato speciale far parte dello show e condividerlo con i miei fans. Cosa ne pensi del tracciato? Molto tecnico quindi, non solo potenza ma anche abilità. Sì, oggi era più importante avere abilità piuttosto che potenza. Era importante restare in bici per il più tempo possibile. L'obiettivo era non fare troppi errori. Il tracciato cambiava ad ogni giro. Verso la fine della gara faceva molto più freddo e il percorso andava gelando. È stato assolutamente imprevedibile. E che ne pensi del sogno olimpico? Pensi che a questo punto possa essere possibile? Sicuramente è possibile, vista la disciplina di alto livello, qual è il ciclocross. La pratico da quando avevo 18 anni e ci vuole tanta esperienza nel farla. Il fatto è che davanti ci sono ancora ragazzi belgi e olandesi. Su questo dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare. Oggi siamo in Italia, ho visto tanti ragazzini. Si stanno organizzando anche Coppe del Mondo fuori dal Benelux. I ragazzi che guardano ora saranno i campioni di domani. Si può solo migliorare. Un messaggio per tutti i tuoi tifosi italiani. Sei molto seguito da loro, scrivi spesso in italiano. Beh, uso spesso Google Translate. Quindi ora posso dire grazie mille per i tifosi italiani. Il ciclocross è sempre una tua scelta di cuore. Sarebbe più facile rilassarsi un po' durante l'inverno e poi allenarsi per la stagione su strada, ma amo fare cross, mi piace. Penso sia una buona preparazione, ma resta sempre una scelta di cuore. Ciclismo su strada, campionati europei, mondiali di mountain bike, ciclocross. Cosa manca per chiudere il cerchio? Manca il mondiale, ma un mondiale di ogni genere di bici. Ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando e pensiamo di arrivarci. Cordiano, mi è piaciuto molto vedere Mirko Celestino con Daniele Pontoni qui. Quindi c'è la volontà di unire sempre di più il mondo multidisciplinare. C'è qui anche Roberto Amadio. Tutte le discipline devono lavorare insieme per far crescere i giovani. Assolutamente sì, ho sempre detto che lo spirito di squadra deve essere per noi l'arma vincente. Abbiamo visto i mondiali di Val di Sole di mountain bike che era a Pontoni a fare da spalla a Celestino e qui vediamo Celestino fare da spalla a Pontoni, per cui assolutamente lo spirito è quello giusto. Filippo Pozzato, Pippo allora, prima esperienza a livello di visione da spettatore della Coppa immagino per te? Sì, la prima volta, spettacolare sulla neve, quindi penso sia riuscita bene. Penso che, come si parlava con Thomas anche questa mattina, potrebbe essere una cosa che è veramente l'inizio di un futuro sulla neve, visto che è uno sport invernale e quindi magari può un po' cambiare quello che è stato il Cirocross classico fino adesso. Tu sei uno che molto spesso riesce ad anticipare quello che succede in Italia. Vederti qua cosa può voler dire per i tifosi italiani? C'è nella tua testa la possibilità di creare un evento oltre a questo che spero venga ripetuto? Diciamo che siamo qua perché l'ho portato, perché comunque con Thomas da due anni mi chiedeva di trovare una località. Io sono stato qui con loro a parlare, ci siamo trovati d'accordo e poi hanno organizzato tutto quanto loro, però diciamo che un piccolo piedino c'era alla base di tutto, quindi siamo contenti di essere partiti e abbiamo anche per l'anno prossimo, abbiamo già altre tre o quattro località che vorrebbero venire dentro, però adesso vediamo, già la settimana prossima potremo chiudere con una definitiva. Molto bene e oltre ad essere un grande appassionato di gravel, cosa mi dici? Per il prossimo anno c'è qualche novità anche per le tue organizzazioni che potrebbero vedere, che ne so, la butto là, una tappa di Coppa del Mondo gravel. Ma vediamo di capire il regolamento prima che non lo sappiamo ancora, sicuramente è l'idea di continuare, speriamo di fare qualcosa di nuovo. Grazie Pippo! A voi! Il bello del ciclocross è anche il terzo tempo, siamo all'interno del motorhome della KTM Alchemist... Alchemist... Renta Breaks! Grazie Franci per un'intervista un po' diversa appunto ai quattro ragazzi, anzi due ragazze e quattro ragazzi. Cominciamo da Francesca Baroni. Francesca, le tue emozioni in Coppa in Italia sulla neve? Sicuramente è stata una grande emozione, è stata una cara veramente particolare e per quanto riguarda me, dovevo ammettere di aver si imbasiato la scelta delle come e non ho pagato le conseguenze, però ho cercato di non mollare e di recuperare il più possibile. Marta, anche per te prima esperienza così in Coppa sulla neve, secondo te potrebbe esserci futuro in queste tipologie di gare? Perché il ciclocross spesso diciamo che cambia in base alle tipologie del percorso, quindi la neve potrebbe essere anche una variante diversa anche per voi atleti. Sì, sicuramente questa gara era completamente diversa da tutte le altre, personalmente era la prima volta che correvo sulla neve, è bello avere la Coppa del Mondo in Italia e secondo me questo tipo di percorso potrà avere il futuro, sì. Lorenzo o Nicola, con chi partiamo? Con Nicola, dai. Nicola, sei corso con la maglia azzurra, quindi intanto le tue emozioni per correre nuovamente con la maglia azzurra e poi una domanda, com'è correre con il pubblico italiano che tifa così tanto? Ma è sempre bello correre con i colori della nostra nazione, farlo proprio qui in Italia è qualcosa di veramente fantastico, è stata un'esperienza particolare, tanto tifo e dai qualcosa di nuovo che sta forse andando nella giusta direzione per il futuro, quindi direi che ci siamo. Voi tra l'altro spesso correte all'estero, siete una delle poche squadre che fa tanta attività fuori, qual è la differenza che avete notato tra una Coppa del Mondo classica, insomma quelle che si trovano in Belgio o in Olanda, e il plus che magari potrebbe dare una Coppa in Italia? Ma adesso per fortuna pian piano i percorsi italiani si avvicinano sempre di più a quello che sono più o meno quelli belga, quindi direi che anche lì siamo sulla buona strada, ovviamente organizzare una Coppa del Mondo è sempre difficile, ci vuole lo spazio giusto e la conformazione del territorio giusto, però secondo me qui in Italia abbiamo tantissimi posti in cui si possono svolgere le Coppe del Mondo a partire da Brugheri o anche Faedo Derzo, quindi basta solo crederci e provare a organizzare un evento così importante. Lorenzo, anche per te l'esperienza qui sulla neve con il pubblico, prima domanda poi ti passo il microfono, seconda domanda, quanto era importante secondo te in un percorso come quello di oggi le capacità di guida rispetto alla potenza pura, anche se ha vinto comunque un grande fuoriclasse? Ma sì, correre in Italia col nostro pubblico una Coppa del Mondo è una cosa fantastica, perché ad ogni curva c'è sempre un tifo eccezionale e quindi è veramente emozionante, ti fa dare anche quello che non hai, diciamo. Mentre per quanto riguarda la tecnica sul percorso qua era veramente veramente importante, io ho notato che se giravi pulito e guidavi bene facevi la differenza, poi ovvio i watt servono sempre perché parti da spingere ce n'erano sin salita, che anche in pianura, però la tecnica oggi era veramente importante e anche la scelta delle gomme. Ragazzi io vi ringrazio, vi aspetto a Scratch, mi raccomando perché Argesi, insomma vogliamo salutare Argesi, mi salutate e mi dite ciao Argesi, ok? 3, 2, 1... Ciao Argesi! Amici di Scratch, siamo giunti alla fine di questa giornata storica per il ciclocross, qui in Val di Sole, qui a Vermiglio, gare entusiasmanti, gare bellissime, tanto pubblico, tanto entusiasmo. Ringraziamo Tina Ruggeri che ci ha fatto compagnia con qualche intervista per questo speciale. Noi siamo un po' di parte, però oggi un bel 10 lo diamo e speriamo soprattutto che prima o poi il ciclocross diventi disciplina olimpica. Ciao a tutti! Grazie 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 a tutti donne! Una di queste biciclete che non si dice no, non importa dove si troverà. Circo, non stavano in piedi, oppure era già tanto che stessero in equilibrio. Io parto da un presupposto e poi tu mi dici se sei d'accordo o no. È 23 anni che io per ora la causa del ciclo cross come disciplina olimpica, perché ogni volta, ogni 4 anni potrebbe portare dei grandi benefici a tutto il mondo del ciclo cross, tenendo conto che il binomio del ciclo cross si sa è fango, terra e quindi questo è il valore del ciclo cross, quindi non bisogna dimenticarsi. Poi, bene, il ciclo cross sulla neve può anche essere importante, però dobbiamo sempre rendersi conto che il ciclo cross è l'unico sport a livello planetario che l'influenza non è tanto dei percorsi ma dettato dal tempo. Madre natura decide che piove è un percorso, se nevica ne è un altro, se c'è vento è ce n'è un altro. Quindi teniamo conto di questi valori che secondo me sono molto più importanti del definire il perché e il percome possa essere disciplina olimpica o meno, perché adesso tutti quanti saltano sul carrozzone e io ho detto, ho sentito tante calzate, tra virgolette, nel senso che sono 23 anni che lo diciamo noi, però la riflessione va fatta, non vorrei che portasse via quello che è il vero spirito del ciclo crossista, cioè fango e soprattutto quelle gesta alla piezza, sai correre e via discorrendo. Ma è un tema importante Nicola, quello che tu hai citato ora, credo che qua non si tratta di essere d'accordo o non d'accordo, si tratta proprio di sviluppare un confronto, una discussione e capire dove può portare questa innovazione. è stato qualcosa che ha suscitato interesse, entusiasmo, curiosità, credo che gli stessi atleti, anche leggendo poi i social, abbiano dato le proprie considerazioni, indicazioni e sono stati tutti entusiasti sul fatto di aver corso in un terreno che mai era successo. Ora siamo partiti dal fatto che questa gara è stata così propedeutica a capire se in futuro potrà essere inserita come disciplina olimpica invernale, perché il ciclo cross lo hai detto prima si fa d'inverno, nelle condizioni che hai detto prima, pioggia, fango e quant'altro. Certo, adesso ci saranno alcuni che avranno visto in modo così entusiastico questa cosa, altri che magari dicono, no, per noi il ciclo cross è quello, ma l'ha portato avanti. Diciamo che la verità sta sempre in mezzo, nel senso, gli uomini di buon senso cercano di vedere un po' quali sono tutte le varie anime che in qualche maniera hanno un'opinione diversa più che uno dall'altro. Io penso, facendo un'analisi, che chi se ne frega, va bene una volta ogni quattro anni, se porta soldini a tutto l'impianto del ciclo cross e nel ciclo cross debbano rimanere. Perché credo che potrebbe essere una grande chance per poter dare più soldi ai partecipanti, perché oggi come oggi, insomma, gli elite a volte beccano siano una scatola di dipomi, da 50 euro forse, non è, credo che sia, neanche dignitoso, perché dobbiamo tener conto che per questi atleti è un lavoro. Quindi benvenga la disciplina olimpica, mantenendo quello che è il brand vero del ciclo cross, perché a FAE o come Milano la settimana scorsa nevicava, l'altro ieri mattina c'erano 11 gradi, cioè voglio dire, il tempo è che è il vero padrone del ciclo cross. Sì, ecco, però considerato una cosa, non si può pensare che questa sia una gara che venga fatta ogni quattro anni, bisogna anche pensare che gli atleti debbano correre qualche volta durante l'anno in queste condizioni, non avrebbe da pensare che potrebbero essere delle comunità montane che organizzano questa gara, Val di Sole, bisogna dire, loro sono ma c'è Cortina, abbiamo Sestriere, insomma abbiamo località che potranno dire, quando ci sono le condizioni facciamo queste gare con questa gara, quindi gli atleti dovranno pure provarsi qualche volta su questo terreno, perché poi se ci sarà, non sapremo, le olimpiadi saranno a Parigi nel 2024, vedremo, no scusate, stiamo parlando invernali, quindi dobbiamo andare a Cortina 2026, quindi vedremo se intanto riusciremo o se non riusciranno a buttarla dentro, però qualora ci fosse questa scelta, bisognerà pure creare delle gare che sono fatte in questo tipo di percorso. Beh, certo, mi viene da pensare però sai, il proscenio del ciclo cross e il fango, la vedo dura a sparare cannonate di neve a fae di Oderzo, bisogna andare in montagna, quindi creare un calendario ad hoc, ecco a proposito dei calendari già sono intasati adesso, ma lo diciamo dopo, io se non ti dispiace mando po' fae con gli sportivi del ponte, tanto freddo, però un percorso amici cari, molto modesto devo dire, però bello, dove comunque vincono sempre quelli che meritano, abbiamo visto anche in Val di Sole, Van Aert era bravo là, è bravo sul fango, è bravo dappertutto, un campione è un campione, è qua, insomma abbiamo visto le forze in campo, sono sempre rispettate, è un percorso che a me è piaciuto molto perché c'era molto da rilanciare e mi sono anche divertito, quindi fai. Gentili telespettatori benvenuti nel miracolo di Borgo Barattin, siamo a Fae di Oderzo per quanto concerne la quarta prova del Gran Premio, Master Cross Targato Selle SMP. Abbiamo tutti goduto della diretta in Rai e adesso godiamo delle immagini, delle categorie, diciamo così, tra virgolette, minori, ma che non lo sono affatto, partendo con gli allievi e poi esordienti, donne allieve e via via con gli uniones e la fascia amatoriale. Intanto stiamo assistendo al bel percorso tracciato con umiltà, ma reso sicuramente affascinante anche grazie alle condizioni meteorologiche che determinano comunque sempre i vari percorsi che andiamo a raccontare. In questo caso negli allievi al secondo e primo anno se ne stanno dando sia Viezi che Travella e Fantini per quanto riguarda gli allievi al primo anno, Ettore Fabro, Proietti e Darius, questi saranno poi coloro che ci terranno compagnia all'atto conclusivo con la finale, vale a dire quello che tutti stiamo tendendo è il campionato italiano. Chiaro, abbiamo visto anche un ciclocross sulla neve, il ciclocross, il binomio è chiaro, fango, terra e acqua e quindi noi godiamo anche di queste immagini. Ricordiamo che c'è stato anche fiume Veneto, non abbiamo le immagini purtroppo, ma è stato anche un bel percorso contaminato da qualche polemica, ma si sa che le polemiche sono un po' il pepe e il sale del ciclocross, certo che vorremmo che fossero polemiche anche abbastanza costruttive, c'è stato un dosso, una conca che ha per vaso un po' i ciclisti sono andati un po' sott'acqua, ma si sa che il tempo condiziona molto i percorsi e quindi ci sta anche quello di fiume Veneto, i quali hanno tracciato un percorso veramente fantastico e a me è piaciuto veramente tanto. Tanto qualche caduto, qualche scivolone anche qui a FAE, ricordiamo sempre comunque che ci sono sempre le riunioni tecniche prima dei percorsi dove si valutano gli eventuali rischi o gli ostacoli, se sono giusti o meno, quindi là è la sede opportuna per poter dire alcune cose. Mi faccio riferimento a un po' le polemiche che sono successe a Fiume Veneto, che tra l'altro è stato un percorso veramente bellissimo dove tutti gli atleti hanno potuto dimostrare il loro valore e soprattutto le loro qualità. Come? D'altronde lo stanno facendo qui i ragazzi allievi a FAE, FAE è un borgo piccolo, piccolissimo, dove tutta la popolazione si investe anche delle responsabilità cogliendo gli atleti nelle case, dandogli un tè caldo, facendogli fare una doccia ed è un aspetto secondo me molto molto importante, l'ho già detto alcune altre volte, è un piccolo miracolo, un piccolo borgo che diventa capitale del mondo nel ciclocross visto alla capacità anche degli interpreti, vale a dire gli sportivi del ponte, in testa Mirko Barattini il quale sa esattamente come far affascinare non soltanto gli atleti ma anche le persone. Un pubblico che qua erano abituati a vedere anche 10-12 mila persone sotto pandemia e così bisogna un po' adattarsi, speriamo che questa brutta bestia possa passare il più in fretta possibile per poter consegnare, ovvero possibile in questo caso il borgo Barattini lo era, la possibilità di vedere tanta gente come abbiamo visto fino veramente a pochi anni fa. Ma d'altronde continuiamo con questa bella passeggiata, ricordiamo questa è la categoria degli allievi, poi proseguiremo con il calendario, una giornata veramente abbastanza, insomma così, piovosa, condizione questa che in inverno è più che accettabile e soprattutto rende, come abbiamo già detto tante volte, il percorso più sensibile ai cambiamenti. Per quanto concerne proprio la gara degli allievi andiamo a sottolineare la bella prova anche, sono tutti abbastanza ravvicinati tra Bonafini, Fregata, Bose e De Longhi, questo lungo biscione di corridori, certo che i ritmi li stanno dettando questi corridori qua, vale a dire Fantini, Viezi e Travella, i quali sembra abbiano una marcia in più, poco precedentemente a questa immagine, c'era un fosso che fortunatamente non era allagato perché la pioggia è stata sì abbastanza abbondante ma non esattamente come quella che poi dopo è successo a Fiume Veneto, veramente lì l'acqua ne è arrivata tanta, come tanta neve è arrivata in Val di Sole e ha imbiancato così le piste di ciclocross rendendole davvero affascinanti, alcuni ragionamenti li stiamo facendo in studio e li faremo anche ancora e chissà per quanti anni a venire, noi ci auguriamo tutti che il ciclocross possa diventare disciplina olimpica, però stiamo attenti a come la comunichiamo perché potremmo farci veramente tanto 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 male, il ciclocross come disciplina olimpica può essere qualcosa di interessante se a pioggia vanno i fondi alle gare come queste perché noi, almeno io interpreto così, il gota del ciclismo deve essere un po' come il gota del calcio dove certo ammiriamo si pagano anche più soldini però lo si fa perché vorremmo vedere i vivai veramente zeppi di possibili, un domani campioni delle due ruote ma soprattutto dare delle possibilità ai giovani di poter praticare sport sempre e comunque sia il ciclismo che altre discipline, noi interessa poco, certo che con una disciplina olimpica in testa potrebbe essere un bel faro che illumina queste organizzazioni e questa fascia di età, ancora bella oramai una giornata dove questi due atleti, vale a dire la DP 66 con Stefano Viezzi che adesso sta conducendo e Cristian Fantini della KTM Brenta Breaker lì davanti e hanno circa una decina di secondi in aumento però per la verità stanno conducendo una gara particolarmente diciamo così di conserva tra loro due vanno d'accordo, stanno i cambi eccetera, qua un percorso dove rilanciare conta molto e stare anche dietro conta parecchio, però vediamo sempre che comunque anche se è quasi piatto come una tavola da biliardo, le insidie nel ciclocross ci sono sempre, non vediamo i ponti degli altri anni, beh ma chissà, a me piace più così, adesso questa è una mia sensazione, è una mia libera scelta di poter pensare quello che voglio, altri giustamente possono pensare che con i ponti sia più bello, però oggettivamente non cambia nulla, non cambia nulla rispetto ai valori in campo, i valori in campo sono questi, vincerebbero con o senza i trabattelli o i ponti artificiali dove qua hanno fatto scuola e quindi è affascinante ugualmente il percorso, molto tecnico, bisogna sapere sempre guidare, bisogna stare attenti a come si prendono le curve, le chicane come stare in piedi e quindi parliamo sempre delle solite cose, ciclocross questo è la disciplina che ti insegna stare in piedi, certo qua abbiamo visto tanti lo scorso anno Braia Olivo brillare su tutti, oggi vediamo Braia Olivo che molla e fa la strada, tanti hanno detto questa strada che porta via rapina o sequestra i corridori del ciclocross è una verità, però fin quando non cominciamo a pensare che anche il ciclocross a livelli dei junior in su hanno bisogno anche di benzina da mettere tra le tasche, quindi soldini, non possiamo pensare che poi dopo le sirene della strada non facciano effetto, poi chi se ne frega a quei livelli là se stai un anno o due anni, a me che importa, mi importerebbe tanto che questi ragazzi continuassero a fare ciclocross, specie coloro che hanno nelle corde questo tipo di discipline, ne abbiamo visti tanti, mi viene in mente anche Depretto che non lo vedo più, eppure Depretto ha vinto tantissimo, era una speranza più che una speranza, anche lui ce lo siamo giocati, adesso Braia Olivo ce lo stiamo giocando, vedremo cosa succederà, io mi immagino e spero che proprio coloro che stanno ascoltando questo momento, perché queste sono le categorie sensibili, possono fare un po' di mea culpa e ragionare anche su cosa si può fare, perché comunque il 50% degli iscritti sono nel fuoristrada e quindi conterà qualcosa questa, diciamo così, sorta di maggioranza, chiamiamola anche politica e critica, quindi staremo a vedere, intanto bella la gara degli allievi, come al solito non usano tanti tatticismi, vanno via benissimo, vediamo Cristian Fantini che si prende tutto il suo proscenio, ha dato una bella trenata nell'ultimo giro, è lì che se la sta veramente gustando questa grande vittoria, quindi Fantini-Christian della KTM Brenta Braich va a vincere su un ottimo Stefano Viezzi di P66 con neanche un secondo di vantaggio, arriva anche Nicola Stravella della Guarciotti Developing, io lo chiamo Guarciotti, sviluppo Guarciotti, poi l'ho detto già in tre volte, fin quando non arrivano i Guarciotti a dirmi devi dire Developing, io continuo a dire sviluppo, sviluppo Guarciotti, mi piace, è italiano, poi è poi gli italiani che fanno sviluppare questi talenti. Bonafini-Edoardo, lo vediamo insieme a Luca Fregata, Bosio, De Longhi, Stenico, Pavanello e Paldo Agnac per quanto concerne la top 10. Gli allievi al primo anno, vince Riccardo Darius, Mattia Gagliardoni-Proietti al secondo posto, Ettore Fabro, Agostinacchio, Mattia al quarto, quindi Balatore, Brafa, Pavi, Longoni e Carli Tommaso. Questo è il componimento della prima gara che vi abbiamo proposto oggi in questa bella cornice targata a cicliocross del ponte, quindi in testa a tutti quanti gli interpreti che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni, vale a dire i Barattini, i Salvador, chi più ne ha più ne mette, i Biliani, insomma quella famiglia allargata che si sta occupando di dare possibilità importanti a questi atleti oggi, come in questo momento, che stiamo raccontando, partono le donne allieve insieme alle donne esordienti, anche questa è una bellissima gara con tanti partecipanti, pensate che qua siamo al giorno dell'Immacolata, poi la domenica c'erano tantissime gare sul fango e poi la gara regina che era quella della Val di Sole dove sono giocate soltanto due categorie tante, sono state un po' le critiche mosse sul fatto che nel calendario c'erano altre toppe gare in concomitanza con questa prova di Coppa del Mondo, beh, dico sì, però forse lì per non rovinare il manto hanno preferito, per non rovinare il manto hanno preferito non far gareggiare le categorie giovanili, per cui ha un po' così determinato questo forfè da parte delle squadre. Ecco, sarebbe stato bello che ormai al sabato far gareggiare tutti quanti i giovani e poi la domenica farli gustare questo tipo di spettacolo che comunque c'è stato, per fortuna anche tanti italiani sono andati in soccorso degli organizzatori perché, a me, le teste di serie, i grandi campioni non erano poi tantissimi, erano circa 25-30 i corridori alla partenza degli uomini e più o meno così anche nelle donne, quindi la nazionale italiana ha portato un bel soccorso con tanti tanti convocati e quindi ha un po' salvato, diciamo, il numero dei partecipanti, non dico la qualità, certo non c'erano tutti i grandi campioni, però voglio dire, è già tanta roba aver fatto questo tipo di esperimento che ha veramente suscitato tanta curiosità e noi speriamo di poterla comunicare nella maniera più giusta possibile, tanto donne allieve con Arianna Bianchi, la Elisa Ferri e Bianca Perusin che stanno conducendo in questo momento insieme anche alla Rinaldioni e alla Piggy, poi man mano per quanto riguarda le donne esordienti, oramai la sorpresa che non è più una sorpresa, in testa è Giorgia Perizzotti insieme a Camilla Murro, la Giulia Magdalena Mitan, la Petres e la Calligaris, questo è un po' il componimento delle gare giovanili che stiamo raccontando in questo momento, vale a dire allieve ed esordienti. Il percorso abbiamo detto tra i filari di questi vitigni, che oramai sono spettacolari, nel Trevigiano sappiamo che c'è il Prosecco, ma ci sono tanti altri vini bianchi di grande pregio e pensate a una nota che mi viene in mente, che ho sentito tanti tanti anni fa, che c'erano alcuni che dicevano che non volevano che si partecipasse perché potevano rovinare i vitigni, invece i contadini più acuti e più intelligenti dicono no no, è un dolce massaggio nei filari perché rende il terreno, lo smuove un po' e le radici è un po' come dire una giornata di spa e infatti oggi se andate a vedere le nuove tecnologie vanno con delle sorte di biciclette però che hanno come un piccolo aratro che vanno a massaggiare a ridosso dei filari proprio le radici perché così diventano più forti, si rubostiscono, prendono più vitalità e proteine dalla terra e quindi abbiamo sfatato anche il fatto che le biciclette possano far del male o possano nuocere ai vitigni come ai meleti come abbiamo visto anche in tante parti dell'Alto Adige e non solo. Intanto qua c'è un litigio con le biciclette, anche questa è un'arte perché io ho provato tante volte a dare il cambio della bicicletta e devo dire la verità non è per niente facile e rischi di far perdere la gara come quel bravo ragazzo che ha rischiato di far perdere la gara e l'abbiamo visto tutti in diretta, Gioele Bertolini che quest'anno non si è fatto mancare nulla già di suo, in più ci pensano anche gli altri, ecco attenzione ai percorsi ragazzi, perché il ciclo cross non è che passa ai corridori liberi tutti e andiamo dentro i percorsi e facciamo festa, non è così che funziona, un po' di rispetto vuol dire anche quello di non attraversare perché quelle fettuccine là non è che sono là per arte decorativa o per fare pubblicità a selle SMP che salutiamo e che gli costano oppure un pozzo, ma è perché in quel tratto di stradina lì passano i corridori e non devono passare gli astanti, tante volte noi negli arrivi dobbiamo cancellare alcuni arrivi perché non abbiamo la possibilità di farvi vedere perché ci sono alcuni che imballano le telecamere così anche nel percorso ma come non è oggi con questi due belle atlete, vale a dire Arianna Bianchi e Bianca Perussini che stanno veramente gongolando, stanno andando via alla grande, ultimo giro per loro, ultima fatica, sono proprio nella fase conclusiva e quindi Perussini bianchi, poi dopo abbiamo Rinaldoni, Pighi leggermente staccati però qua vediamo che della Guerciotti sta andando via Arianna Bianchi e inseguita da Bianca Perussini, circa 5 secondi, 20 metri di distacco tra un all'altro, sta inserendo un po' il turbo la Arianna Bianchi, secondo me vuole fare la gara dura, vuole mettere in difficoltà la parietà Bianca Perussini per dire qua oggi la voglio vincere io e sta menando di brutto, non perde tanto la Perussini però la vediamo leggermente un po' più legnosa come pedalata e quindi sta patendo, tanto è vero che in queste immagini vediamo già nella sintesi che ha preso un margine di circa 10-12 secondi, ostacoli per lei e quasi quasi una marcia trionfale che la divide veramente oramai poche centinaia di metri, dovrà andare ancora dall'altra parte del percorso, anche là sotto i vigneti quella foresta meravigliosa che abbiamo visto prima dalle immagini, veramente mi piacerebbe andare là a vedere questa foresta incredibile, molto intima, molto segreta, quasi immagini fiabeschia che vedremo fra poco ma intanto vediamo Arianna Bianchi che sta andando via da sola, oltre 15 secondi il suo vantaggio adesso rispetto alla Perussini, 30 e passa sulla Ferri, Rinaldoni e la Pighi, altro giro, siamo proprio nelle parti diciamo così parallela all'arrivo, ancora un po' di misto sul bosco, sui vitigni, ma per lei oramai se non succede nulla e nel ciclocross l'abbiamo detto e l'abbiamo visto tante volte, fin quando non sei dall'altra parte della linea d'arrivo non hai vinto ancora niente perché il ciclocross è anche il fascino, è anche questo, tanto chicane per l'Arianna Bianchi, ultime pedalate, andiamo nell'altra parte dove vediamo questi bellissimi impianti di vitigno e poi dall'altra parte quel bosco meraviglioso che veramente io non ricordo, forse sbaglierò, ma io gli altri anni non me lo ricordo, credo che sia una parte veramente nuova questa, però Barattin correggimi se sbaglio perché queste immagini io non le ricordo, però quel bosco là è qualcosa di veramente incredibile e poi i dettatori diranno, per forza quando tu vai nelle gare non ti muovi dall'asfalto, può essere anche vero, ma ogni tanto vado anche io nei boschi a infangarmi le scarpe per potermi ripulire gli occhi e poter capire i sacrifici e soprattutto anche la passione che ci mettono questi atleti e queste atlete, in questo caso Arianna Bianchi in questo percorso veramente magico, quasi da Elfi, Bianca Perussini la vediamo in fondo con circa 15-20 secondi di ritardo, abbiamo visto una pedalata un po' legnosa la sua, però ha tenuto botta fino veramente a un giro dal termine, quindi la condizione non bisogna neanche parlare di condizione a questi livelli qua, perché ci sono tanti atleti che fanno un tipo di allenamento e altri un altro tipo di allenamento, per esempio gli allenamenti che stanno facendo di legna perché lo so sono di grandi carichi, 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 quando sei tanto caricato nei muscoli che arrivi a fare la gara fai più fatica delle altre che hanno una muscolatura più sciolta, bisogna vedere quando hai deciso di fare lo scarico per andare a beccare l'appuntamento che a te interessa e qua ci sono tanti che l'appuntamento interessante è quello dei campionati italiani e bisogna vedere le loro alchimie di avvicinamento ai loro traguardi più ambiziosi per questi atleti. Oramai è fatta Arianna Bianchi, Guerciotti, sviluppo Guerciotti, va a vincere oggi e vincere a FAE non è mai una casualità, si gira ma oramai è un vantaggio più che ragguardevole, alza le braccia al cielo perché oggi è una gara che conta davvero, ma bene anche Bianca Perussin della DP 66 che va in seconda posizione a circa 15 secondi, seguono Elisa Ferri, Rinaldoni, poi la Pighi, la Tarallo, la Sanarini, Rizzi e quindi Anna Auer per quanto riguarda le donne allieve. Per quanto riguarda invece le donne esordienti abbiamo Giorgia Pellizzotti che va a vincere su Camilla Murro, la Mitan Giulia Magdalena al terzo posto, Anna Rita Caligaris al quarto, poi seguono Carlotta Petri, Valentina Bravi, Nicole Canzian, Maria Cuti, Salmasi, Ludovica e Bombardieri. Maria, questo è il componimento e questi sono alcuni dei podi che vi possiamo far vedere. Gara dedicata alle fasce amatoriali, amici telespettatori, poi concluderemo con la gara entusiasmante dedicata ai juniors, qua partono chiaramente tutti i master, vale a dire fascia 1, fascia 2, fascia 3, comprese le master woman, e qua continuo a dire forse sbaglierò, ma le master woman sono in 5, in 6, per favore fatele partecipare con le donne elite, non cambia nulla, qua invece diventa una manovra di disturbo perché vediamo che questi clienti che sono anche amatori, ma sono anche clienti, devono fare una gara affollatissima, quindi bisogna decidere chi riprendere e chi non riprendere, ma questo è male minore, ma anche per la correttezza della gara mi piacerebbe che le donne prendessero parte con la categoria donne elite, perché così non si capisce più niente, anche loro hanno delle difficoltà enormi, alcune vanno molto forti rispetto ai pari, o non ai pari età, ma ai pari categoria, per cui vabbè non sono tutti quanti i cancherini che vediamo in questo momento, che va via quasi come un elite, o come del Messier, Ferrazzo, Pelizzon e Felice, Pelizzon l'abbiamo già visto, riavvicinarsi a questo tipo di attività, lasciando la perdita da quando era elite, però questa è un'altra categoria, ma sulle fasce 3 insomma le donne vanno anche molto più forti, questa è una mia preunta, è una mia indicazione, lascia un po' il tempo che trovo, intanto vediamo Irenia Lazzaro, la Soligo davanti che quest'anno sta andando veramente come non so che cosa, bene Tamara Fabian che l'abbiamo rivista volentieri già nel paio di occasioni l'abbiamo anche raccontata, intanto sempre cancherini Matteo lì davanti, breve questa cronaca qua con la fascia 2, con Graziano Bonalda, Fabio Perin, Enea Grego, Giuseppin, Sergio, Longoni, Melisperini eccetera, fascia 3, con Cotin, Dal Grande, Mariuzzo, Schiro Sante, Flavio Zoppas, questi che raccontiamo oramai da un'eternità sono sempre lì davanti per quanto riguarda le donne master, abbiamo Mondi Pizzolotto, Fabian Lazzaro e Soligo, Deborah Soligo che io credo è qua la butto ma il prossimo anno potrebbe fare l'elite e farà l'elite perché qua ha una marcia che non è in più e di più, le sta vincendo tutte, un'ottima preparazione, un avvicinamento fatto veramente con cura da parte dei suoi team manager, mi viene in mente Roberto e Tommy Dallavalle che hanno una passione incredibile, stanno ben lavorando con questo atleta che ha doti già sue dalla nascita, era già un fenomeno quando era G1, G6, arrivata agli esordenti e gli allievi, me la ricordo benissimo, oggi è mamma però ancora giovenissima, abbiamo visto con Cancherini che con questo cambio bici velocissima ha una marcia in più, pensate che insomma lascia un po' Marco del Messier dietro senza nessun problema, ha un talento naturale questo qua e d'altronde è giusto che sia così, un doppiato l'abbiamo visto con l'83 ma davanti per quanto riguarda la fascia 2 abbiamo Bonalda benissimo messo tranquillamente con un certo margine di vantaggio, pensate si è sbarazzato di Perin, l'ho lasciato più di un minuto con Greco eccetera eccetera eccetera. Intanto abbiamo visto prima con la coda dell'occhio la Tamara Fabian, abbiamo visto anche la Deborah Soligo che sta facendo gara a se stante, molto intelligentemente, oramai siamo nelle fasi conclusive, la Deborah Soligo si lascerà doppiare perché così almeno prende il proscenio e giustamente prende anche gli applausi del pubblico, tutti e due in maglia, bellissima questa immagine, Matteo Cancherini vince su Del Messier, Felice, Ferrazzo, Pelizzon, Lavarda, Galante, Gasparetto, Campagnolo e Serrani, mentre per le donne abbiamo visto proprio la Deborah Soligo che andrà a vincere su Ilenia Lazzaro e Fabian Tamara. Per quanto riguarda il master faccia 2 abbiamo Bonalda Perin, Greco, Giuseppin Longoni faccia 3, Mariuzzo Dal Grande, Cotton, Schiro e Zoppas. Questo è il componimento, adesso vediamo la linea all'ultima gara di giornata, vale a dire quella degli Juniors, una gara secondo me fantastica che merita di essere vissuta dal primo momento all'ultimo momento. Con le immagini da FAE per quanto riguarda le fasce amatoriali e tutto, adesso passiamo la linea agli Juniors. Gara invece riservata adesso agli Juniors. Quando dico guardate che botta di corridori, questi sono tutti papabili, sono tutti atleti che possono veramente farci brillare gli occhi. Vi prego, teniamoceli veramente stretti, facciamo qualcosa perché questi possono essere nel giro di 2-3 anni veramente degli atleti che possono competere col Nord. E non è vero i percorsi, non i percorsi, ormai anche noi italiani i percorsi li sappiamo fare. Poi la giornata che determina, è chiaro che se noi dobbiamo prendere la giornata che determina la gara epica, allora facciamo che la Paris-Giroubaix si disputa soltanto quando piove. Ma è una stupidaggine. Il tempo condiziona il ciclo cross, ma non facciamoci condizionare dalla strada quando poi dopo li portiamo via, fargli fare un anno o due anni e poi dopo lasciarli a casa disoccupati. pensiamoci prima, questi qua abbiamo Cafueri, Iari Simone, Ettore Pra, Bolzan Edoardo, Luca Paletti, scusatemi, non vogliamo fare in modo che questi possano perlomeno tentare la strada del ciclo cross come attività professionale. Io penso di sì e adesso vediamo un Luca Paletti molto attardato, lì davanti ne vediamo tanti, abbiamo Cafueri, Pra, Bolzan, abbiamo anche Simone e Vari che si stanno giocando un po' la partita, vediamo chiaramente anche il gesto atletico diverso da rispetto alle categorie che abbiamo testimoniato qua, leggera caduta ma non importa, adesso si piove di brutto e vedete come condiziona la pioggia il terreno, pare una banalità ma pare che a tutti quanti questa cosa qua non entri in testa, non lo so perché. Cafueri, davanti a Cafueri abbiamo un ottimo Elian Paccaniella che sta determinando un po' quello che è il ritmo della gara da dare però vediamo che non c'è nessun tipo di buco, ci sono cinque atleti qua e poi tutto è lungo biscione quindi ancora non si può dire nulla di questa gara, tutto è ancora possibile, cerca di rilanciare come in questo caso, vediamo quante possibilità di rilancio ci sono anche nella zona box che è fatta in maniera intelligente, metà di qua e metà sull'alto percorso quindi come giusto che sia, ancora il portacolori della Zanolini su Tirol Paccaniella e Elian che sta dettando i ritmi, 1, 2, 3 sono circa 6-7 corridori lì in una manciata di metri quindi tutto ancora è possibile, non molla neanche un centimetro Tommaso Cafueri che sta facendo la sua gara e fa bene, bene anche Ettore Pra, è benissimo, veramente anche molto 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 bene, fino adesso anche Borello e Pisano, vediamo, ancora impegnati con questo tipo di misto in questi alberi, ho detto prima ho detto alberi fatati è un bosco veramente meraviglioso con quella cascina, anche qua si possono apprezzare anche dei momenti in cui dici ma esistono questi posti, sì sono a Borgo Barattin, a Fai Dioderso non è in capo al mondo, per i veri dovrebbe essere una meta quasi, ma quasi religiosa tra virgolette perché in Belgio sapete che il ciclismo è una religione, intanto il primo passaggio lo vediamo con questo drappello di corridori che se la stanno menando di brutto, dietro un Luca Paletti partito malissimo che sta cercando di recuperare lì davanti che sta tirando come un forsennato, veramente guardate che mi pare il quartetto in pista, capitanato da Luca Paletti per cercare di riavvicinarsi a questi corridori che sono i Caffueri, Iari, i vari Simone, Pra, Bolzà, Mare, Spaccaniella, sono tutti là, e dietro un Luca Paletti, Maidomo vedete come sta tirando, mi sembra che tiri come ganna, il quartetto di pista lo vediamo qua, anche qua quante attinenze con quella disciplina che tanto è stata penalizzata negli anni 90, negli anni 80, disciplina quella della pista che dovrebbe essere riconosciuta a livello planetario, visto e considerato anche gli ottimi risultati, abbiamo avuto non soltanto i mondiali e le olimpiadi, mamma mia e non abbiamo ancora un impianto da dire, un impianto degno della nazionale italiana, ecco, e qua abbiamo impianti degni grazie agli appassionati di ciclismo come Mirko Barattini e tantissimi altri e anche Alan Olivo a Fiume ha fatto un percorso che davvero mi è dispiaciuto non poter essere presente ad andarlo a vedere e andarlo anche a registrare. Ma andiamo avanti con la gara di P69, lì abbiamo proprio Caffueri e di dietro subito ancora, che non molla niente, tutti quanti gli altri, quindi Paccaniella, Bolzà, Mares, si sta accodando anche Luca Paletti dopo un forcing esagerato, lo vediamo già là, che oramai li ha presi di mira, li ha tutti in scia, un po' come quando vediamo le gare di Formula 1 che cambiano le gomme e vanno in scia, io guardo soltanto dietro la testa di Luca Paletti, sta facendo delle trenate incredibili e sta sopravanzando posizione su posizione, io sono entusiasmo, ho un entusiasmo terribile per questo ragazzo, ricordiamolo, a favore del ciclismo, lì anche Emilia Romagna stanno facendo passi a gigante sia come organizzatori ma anche come scopritori di talenti, lui è da lì che arriva e ci sta facendo brillare gli occhi, benissimo abbiamo visto con quale Elian Paccaniella ha fatto quel fosso, con quale grinta, vediamo ancora lì davanti Tommaso Caffueri che sente odore di Luca Paletti, lo sente, guardate che trenata, un controsterzo col posteriore e questo vuol dire sapere andare in bicicletta, una derapata su questo fango che è veramente un fango terribile, guardate come si scivola, abbiamo visto quanto ha perso invece in questo momento Ettore Prach che era lì davanti, ha dovuto scendere in bicicletta, Luca Paletti invece l'ha fatto tutto in bici, ancora qui davanti vediamo Caffueri e Vari Simone ma lei è dietro subito Luca Paletti che sta veramente facendo una gara senza precedenti, incredibile Luca Paletti, non molla una virgola, io l'ho detto ancora agli europei di Jesolo, questo ha una gamba che sembra non faccia fatica, sviluppa un vattaggio incredibile, sembra che vada piano e invece da di quelle trenate che è difficile stare di dietro, ragazzi terzo agli europei non è cosa che te la regalano, vuol dire tanta roba, vuol dire che dobbiamo puntare su questo ragazzo, bisogna tenerselo ben stretto, come voglio tenermi stretto anche Caffueri, guardate che non ha mollato niente, veramente non ha mollato niente, Caffueri ha fatto una gara strepitosa, Elian Paccaniella lo vedo un po', con la gamba più dura, fa un po' fatica a stare dietro al rilancio di Tommaso Caffueri, perde qualcosa, non gli parvero a Luca Paletti, una gara che forse deve accontentarsi della top ten, ha messo nel mirino la medaglia d'argento, a FAE vogliono vincere, a FAE si deve vincere, perché FAE è un po' il San Siro del ciclo cross e quindi l'atleta quando dice ho vinto sì, ho vinto dappertutto, ma si dice ho vinto a FAE, ragazzi, FAE, FAE, non è mica, non è che voglio fare distingui, ma FAE è qualcosa che rimane nell'immaginario collettivo, insomma, gente che sa organizzare e gente che comunque è diventato un faro per tutti gli altri, senza FAE non ci sarebbe stato altre gare, mi viene in mente quella dell'idroscalo, ma tante, tantissime, anche in Val di Non, con Clesch che adesso pare non ci sia più questo tipo di gare, però anche loro si sono tanto ispirati a questa organizzazione. Oramai l'ultimo giro, vediamo che sta Elian Paccaniella tentando il tutto per tutto, vedere se riesce a sorprendere tutto il gruppo che a questo punto si è organizzato e sono tutti lì vicini, bravo Elian, questa qua è una vera e propria fuori soglia, stai andando al massimo, spero tu non possa pagare questo che hai fatto, perché veramente è un'azione non della disperazione, ma volersi sgrollare di dosso il gruppo per poter poi dopo decidere di fare una gara un po' più rilassata, bella Paccaniella, bella questa cosa qua, ma lì davanti, anzi è lì poco di dietro, quando si muovono la DP 66 come Cafueri, la vedo dura e non soltanto, c'è tanta roba lì dietro, non lo mollano neanche un centimetro ragazzi, Luca Paletti in terza posizione, è lì che sta aggredendo da vicino, adesso vuole credere proprio Cafueri, vediamo in questo fosso, ahia qua sbaglia, sbaglia clamorosamente Paccaniella, si fa sopra avanzare, vediamo da Luca Paletti che sopravanza anche Tommaso Cafueri perché ha fatto il fosso in maniera impeccabile, qua adesso l'hanno fatto un po' meglio, ancora piede a terra per quanto riguarda il portacolori della Zanolini e ciao, lì davanti c'è Luca Paletti, arrivederci, andate a prenderlo, mi sembra che stia giocando col gatto con il topo, vediamo, salti, va via con il suo passo, ha recuperato leggermente il capo classifica del Master Cross, targato Juniors, altra parte parallela all'arrivo, sempre Luca Paletti che se la sta giocando con Tommaso Cafueri, Tommaso Cafueri grintoso, non vuole mollare neanche un centimetro, intanto la pioggia cala in maniera davvero incredibile, è un temporalone, freddo, pensate tanto freddo più che in Val di Sole perché qua c'è il freddo umido, quello che ti entra nelle ossa, quello che ti fa bagnare e ti fa star male, mentre il freddo quando non nevico, anche se nevica, è un freddo secco, lo gestisci, qua ragazzi si parla, si parla, bisogna essere nei panni di questi corridori, Luca Paletti, Cafueri, Luca Paletti, Cafueri, mamma mia, è un testa a testa, leggera sbavatura da parte di Paletti, non ne approfitta Cafueri, ma gli taglia la strada in maniera giusta, sportivamente giusta, Luca Paletti guadagna quel 2-3 metri, cerca di sgrollarselo di dosso, non molla neanche un centimetro, bellissima la prova di Cafueri, lui sa che non ha lo spunto per poterlo sopravanzare, diciamo che Luca Paletti sta controllando in questo momento, di dietro cerca di fare qualcosa di più, sia Simone Vari che Ettore Pra e poi via via tutto Bolzano Mares, Elian Paccaniella un po' in difficoltà, ha perso qualche posizione, Luca Paletti ancora in questo misto, con questo fosso, con questo scarto, dribblare quasi gli alberi della foresta, Targata, Faedi Oderzo, Borgo Barattin, dove la natura veramente è un incanto e l'inverno è ancora più segreta, ma segreti non ne ha Luca Paletti che continua a macinare chilometri su chilometri e in questo momento Cafueri mette il muso davanti, cerca di mettere la spia e dire ah deve cambiare, un problema meccanico, qua ne approfitta Luca Paletti, ciao arrivederci. Ciao arrivederci, oramai sono poche centinaia di metri che dividono i corridori, dall'arrivo perde parecchio Cafueri per quel cambio bici e quindi qua fossimo in Formula 1 andremo ad analizzare il perché e il per come, se ho sbagliato i tempi, se poteva andare, se poteva tenere, se l'ha cambiato vuol dire che aveva problemi veramente meccanici di importanza urgente. Luca Paletti, ultima parte sui filari di questo vitigno, cerca di recuperare Cafueri, ma certo che oramai non c'è più tanto tempo perché l'arrivo è qui, l'arrivo è qui ragazzi, ha troppo margine di vantaggio approfittando di quel cambio bici, Luca Paletti a favore del ciclismo, oggi vince qui dove a FAE ed è tanta, tantissima roba, Luca Paletti su Tommaso Cafueri va a vincere e va a convincere su quello che è la gara forse più attesa e più bella di tutto il circuito del Master Cross. Quindi complimenti agli organizzatori, complimenti davvero a questo atleta eccezionale, quindi Luca Paletti, Cafueri, Vari, Simone, Praettore, Bolzà, Mares, Paccagnella, Cancedda, Carrer e Borello chiudono la top ten. Quindi adesso di nuovo la linea allo studio, complimenti agli organizzatori, complimenti a tutti gli organizzatori che in questo fine settimana si sono fatti un mazzo tanto. Grazie. Bene, abbiamo visto anche FAE, FAE è un po' il fiore all'occhiello del ciclo cross, no? La classica. La classica, poi quello che è un po' sfuggito ai più è una cosa che a me fa impazzire, questo Borgo Barattin dove ospitano, nelle case, i tre, i quattro corridori per fargli fare la doccia, per assisterli. Un piccolo borgo, e questo è il miracolo del ciclo cross, permettimi, l'unica disciplina, dove un piccolo centro che su Google fai fatica a trovarlo, che però il giorno dopo tutta l'Europa che conta ne parla. E per me questo è fantastico. Beh, proprio perché è diventata la classica dell'8 dicembre, diventa interessante per tutti quelli che hanno passione del ciclo cross, tra l'altro è stata una giornata ideale perché c'erano le condizioni di freddo e fango e pioggia e quindi gli atleti sono stati veramente messi a dura prova, io ero là, l'ho vista e ho visto gli atleti ed atlete che finita la gara tremavano e queste sono le condizioni del ciclo cross. Sono le condizioni, quando correvi tu di più di oggi, perché il ciclismo si è un po' scollato dalla popolarità, che rendevano affascinante il gesto atletico, anche nelle gare di tappe del Deggio d'Italia con la neve, con il freddo, avvicinavano molto la sofferenza, avvicina la sofferenza a colui che guarda, perché ti medesimi, medesimi il sacrificio, questo il ciclo cross ce l'ha che riesce ad avvicinare le sensazioni, l'emotività delle persone e quindi credo che questo sia anche una chiave molto importante da far leggere e soprattutto per caldeggiare, per favorire quello che è il brand delle ruote grasse vere. Sì, è proprio una condizione che il ciclismo ha comunque da sempre nelle due ruote, perché anche su strada si fa tanta fatica, qua la gara è concentrata su 30, 40, un'ora, dipende un po' dalle categorie. Ed è chiaro che bisogna anche aggiungere un'altra cosa, io mi ricordo quando andavo a vedere Vito Di Tano o Franco Vanier a Saccolongo dove si correva in un tratto di terreno tagliato dal grano turco, è cambiato il mondo, è cambiato il modo di fare il ciclo cross, là c'era gente, poi adesso ci sono i social, ci sono le dirette, ci sono le televisioni, c'è internet, è chiaro che si è allargato anche, la gente può stare in divano e vedere tramite un telefonino una gara. Poi come la vede non lo so, però vabbè. Ecco, però stavo dicendo viverla lì, vedendo le sofferenze delle atlete e degli atleti è qualcosa che ti prende dentro, no? E io che ho provato a correre in bicicletta, non ho mai fatto il ciclo cross perché di inverno avevo bisogno di riposare, però so cosa vuol dire, so quanta sofferenza si fa quando le condizioni in metro sono quelle, corrono un'ora, corrono il giusto per dire se fa troppo freddo mi fermo fra dieci minuti, insomma. Quello diciamo che comunque i ciclosi non mollano mai, un'ora fuori soglia è anche tanta roba però. Diciamo che è un'ora concentrata in massimo sforzo. Ripartendo sempre dal fatto che come disciplina olimpica potrebbe essere, diciamo così, di soccorso anche a coloro che mollano, poi adesso Brian Olivo da junior se molla il ciclo cross, ricordiamo che è campione italiano in carica per andare a fare la sua carriera su strada, ci fosse più soldi per questa disciplina, ci fosse anche più fronte comune da parte della dirigenza per poter cercare di soccorrere e soprattutto dare un po' più di soldini a questi che sono poi gli interpreti, non dico gli allievi, ma già dagli junior sono un po' di più le donne, gli elite che tante volte abbiamo detto vanno per pochi spiccioli. Guarda, vediamo fuori da un periodo difficile che è stata la pandemia e che hanno condizionato organizzatori a declinare i calendari, le stesse società hanno avuto difficoltà nelle trasferte, adesso pare, si spera che le cose si mettono un po' a posto, specialmente quando arriverà la stagione più bella. è una fortuna avere gli organizzatori che hanno voglia di organizzare, sono dei sacrifici enormi perché io li vedo proprio nella quotidianità, seguendo un po' il settore, vedo quanta difficoltà c'è, è un cerchio Nicola, ci devono essere gli atleti, ci devono essere gli organizzatori, ci deve essere una federazione che mette insieme tutto il ciò. È un governo che conta. Ecco, sì certo, questo è fondamentale. Sono sempre figure che parlino col governo, perché se in Francia stanzano 600 milioni di euro per lo sport in Italia, te li scordi, se arriviamo a 50, pure chissà, è già tanta roba, quindi bisogna anche capire quello. Quindi, ritorno proprio a bomba sul fatto che se il ciclocrossio potrebbe diventare disciplina olimpica, ecco che ci potrebbe essere l'interesse del governo, perché sappiamo bene che lo Stato finanzia quelle discipline in maggiore economicamente, quelle che sono discipline olimpiche e se poi arrivano anche delle medaglie, la cosa diventa più interessante. Io vorrei chiarire questo, anche Fanconfaio, ogni tanto mi sento, lui ha detto, proprio quello che diciamo noi, non possiamo pretendere che a Milano ci sia la neve, per cui ipotizziamo questa grande cosa con delle gare ad occhi in montagna e per poi dopo proteggere il ciclocross sul fango che a noi piace tanto come quello che abbiamo visto proprio a Faè. in tema invece di calendari, ecco questa è una cosa che io ci tengo molto, abbiamo un intasamento da ottobre, novembre, dicembre, dicembre pare che tutti vogliono fare gare, no? E quindi sì, sì, ieri per esempio in Val di Sole c'era la gara internazionale, una gara nazionale, due vicinissime, una vicino a Fiume Veneto, l'altra mi pare in Lombardia, c'è questo intasamento, questo blocco e poi dopo finiti i campionati italiani, cioè devo dire prima settimana di gennaio, arrivederci, non ci sono più gare. Sì, questo è un tema che stiamo affrontando come settore importante, è vero che quest'anno come non mai ci sono state tante gare, c'è anche un motivo, con il fatto della pandemia la federazione ha pensato giustamente di non applicare le tasse e quindi tanti organizzatori hanno aumentato l'importanza della gara da regionale a nazionale e ci sta, quindi abbiamo dovuto gestire tutte queste richieste cercando di posizionarle nel territorio un po' lontano l'uno dall'altro, sapendo però che il movimento vanta anche di numeri importanti, perché vediamo che quando c'è una gara si trovano tra giovani e meno giovani 7-800 partenti, quindi questo è positivo, abbiamo detto ci sono tante richieste, cerchiamo di gestirlo, cerchiamo di dare la possibilità a tutti questi organizzatori che vogliono la gara e noi non possiamo dire di no, di ingestirle in modo giusto, certo è chiaro che le istanze che ci stanno arrivando dopo il campionato italiano muore il calendario, allora l'idea è quella di pensare, di portare la nostra idea all'UCI dicendo perché non spostare tutti i campionati italiani a fine gennaio o prima magari dei campionati del mondo, questa è una cosa che deve essere fatta dall'alto, calata a tutti i paesi europei, quindi noi ci potremmo fare da portavoce e magari da apripista, è chiaro che noi contiamo per l'Italia, ma ci deve essere una panacea perché comunque tieni ancora vivo l'interesse fino ad arrivare ai mondiali, ecco che allora lo puoi spalmare su più periodo lungo, ecco e quindi noi ce l'auguriamo perché sarebbe un'ottima idea, poi voglio sentire anche per la Isetti perché la Isetti è là, potrebbe avere un peso, ci potrebbe dare una mano, e beh è un po' come l'Inter, tu sai che io sono amante del calcio, no? Sì. Quindi piacevolissimo anche l'Emilia Romagna, diamo la medaglia anche quest'anno, la diamo veramente perché l'Emilia Romagna sta dimostrando già due anni di avere a cuore veramente il ciclismo a 360 gradi. E' stato il teatro dell'osservanza di Imola, in provincia di Bologna, a fare da sfondo alla dodicesima edizione della Festa delle Stelle dell'Emilia Romagna. La grande festa, organizzata dal Comitato regionale dell'Emilia Romagna, per celebrare i risultati sportivi dei campioni e dei tecnici, che ha visto la presenza di dirigenti appassionati che hanno applaudito le principali personalità emiliano-romagnone. Ma direi che come risultati, come si è visto in questo pomeriggio, più di così penso che i nostri ragazzi non riescano a raggiungere. Abbiamo raggiunto il top col campionato del mondo. A livello giovanile siamo riusciti a vincere qualche maglia di campione italiano. Cercheremo sicuramente il futuro di fare sempre meglio, perché poi è questo l'obiettivo di tutte le società e di chi li gestisce, noi come Comitato regionale, di riuscire sempre a fare meglio della stagione passata. Non ci possiamo lamentare di quella che abbiamo appena festeggiato, ma il futuro cercheremo di riuscire a portare a casa ancora di più. L'evento ha visto tanti campioni sul palco, del calibro di Andrea Cantoni, Daniele Bertozzi, Deborah Morri, Cristian Fantini, Mirko Bendemmia e Luca Paletti. Luca Paletti a favore del ciclismo, quest'oggi alla festa del Comitato regionale dell'Emilia-Romagna. Allora Luca, raccontaci, anzi, riviviamo insieme a te quello splendido europeo, quella medaglia di bronzo, primo italiano in categoria Juniors, che va a vincere una medaglia nel ciclocross. Un'emozione incredibile. Sì, un'emozione fortissima, è stato il mio primo podio importante e sono molto contento che sia arrivata per dare spirito all'Italia, per farla crescere nel ciclocross, che sta crescendo molto bene, già dalla Coppa del Mondo che hanno organizzato oggi, in Val di Sole, e niente, sono molto contento. E poi, riconoscimenti anche per l'impeccabile organizzazione del GS Emilia, della Nove Colli e del gruppo di extra giro di patron Marco Selleri e Marco Pavarini. Molto sentita la premiazione Fair Play ai figli di Alberto Braghetta, il grandissimo dirigente regionale, recentemente scomparso, padrino della maglia giallo-rossa della regione. Sul palco, la star della serata è stato il campione del mondo Filippo Baroncini, che insieme al CT Marino Amadori ha rivissuto le gesta dell'impresa nelle Fiandre a Lovania. Filippo Baroncini alla festa del Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna. Oggi in premiazione, oramai sei abituato? Oramai sì, siamo all'ultima premiazione, da d'ora in poi si inizia a lavorare a sodo e si pensa al 2022. E gli allenamenti come procedono? Perché sappiamo che la preparazione, adesso che sei passato in maglie con la maglia della track, sono diversi sicuramente rispetto a quello che era il mondo degli under 23. Sì, bisogna aumentare un po' la cilindrata, per cui si tende a fare più ore e stiamo buttando un po' le basi per fare una buona stagione. Premio alla carriera l'ex commissario tecnico della Nazionale Davide Cassani. Premiazione olimpionica per Francesca Porcellato, medaglia d'argento alle Paraolimpiadi di Tokyo ed è stata effettuata proprio dal tecnico romagnolo. È sempre bello ricevere dei riconoscimenti perché vuol dire che hai fatto dei grandi risultati e quest'anno sì, per me è stato un anno veramente brillante, un titolo mondiale, un secondo posto ai mondiali ma un secondo posto alle Paralimpiadi, che chiedere, cosa chiedere di più, la mia quattordicesima medaglia alle Paralimpiadi, tante cose che è bello ricordare, anche se sono passati dei mesi ma è sempre bello ricordare e far riemergere delle emozioni bellissime che ho provato. Quest'anno è stata una festa con dei campioni e dei titoli da festeggiare probabilmente irripetibili. Io voglio però portare l'attenzione alle 194 società che sono l'ossatura del Comitato regionale, che hanno ripreso l'attività, che hanno organizzato tante corse e hanno consentito ai nostri ragazzi di riprendere con continuità l'attività delle corse, per cui onore al merito alle nostre 194 società. Nuovo premio all'esito dal Comitato, le nomination delle province in cui ogni Comitato provinciale ha individuato la propria stella dell'anno. Lorenzo Botti, Ennio Piccoli, Orfeo Casolari, la SC Dal Fiume, la Stella Alpina Renazzo, Luca Bagnara, Valentina Zanzi e Tonino Pasini. Grazie a tutti. Ben rientrati amici di Scratch. Ecco, stavamo parlando dell'Emilia Romagna dove c'è Fabio Sganzi che sta facendo un lavorone. Io ai campionati europei dove ci siamo anche incontrati, dove era una giornata caldissima tra le altre cose, quindi altro che ciclo cross, ho detto io vedo un ragazzo che mi ha fatto veramente brillare gli occhi, perché sto Luca Paletti come l'ho visto che correva e sta facendo numeri, abbiamo visto anche qua, fa è una cosa straordinaria. Ecco, io questo che dico, come Brian Olivo che molla, io non voglio che uno così molli. Questo potrebbe veramente essere uno tra i top nel ciclo cross e perché no, con le giuste alchimie, farlo diventare anche qualcuno su strada, perché Van Arth, non è che sia un fenomeno, ha due gambe, due piedi, credo che sia anche tante volte l'osare e in questa la federazione deve darci un po' di sostegno. Certo, si parla tanto di multidisciplina e quindi questa è una dimostrazione. Tu prima hai detto un Paletti che dal cross è parsa alla strada, a me piacerebbe che un Paletti passasse dalla ciclo cross al mountain bike, perché io sposo un po' da causa del fuoristrada. Ma poi lì ho una domanda da farti a te. Quindi mi piacerebbe che la multidisciplina fosse dal fuoristrada alla strada, ma anche dalla strada al fuoristrada, perché è più facile la prima parte, cioè l'uno che sa guidare, monta su strada e ha le qualità. Un po' più difficile lo stradista che passa in una mountain bike e lì la tecnica la fa da padrone, però nella storia abbiamo corridori Cadalevus, Sagan, Avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, benissimo. Per quanto riguarda tu, prima hai detto Fabio Sgarzi, è veramente un motore in Emilia Romagna, sta lavorando molto bene, ha portato vari eventi di ciclo cross, tra l'altro proprio due settimane fa c'è svolta la Coppa Italia giovanile di ciclo cross, è stato un bel successo, un percorso impegnativo, un po' innovativo, dove si è variato dal classico circuito a anche qualche altimetria, un po' in più, e credo che questo, Nicola, possa essere una svolta nel futuro. Bisogna anche portare piano piano i ragazzi dalle categorie inferiori ad avere dei percorsi un po' più impegnativi, altrimenti quando andiamo in Belgio, in Holanda... Sono mazzate. Esatto. La domanda sulla mountain bike, io però vedo che dalla mountain bike si prestano spesso e volentieri e vanno benissimo nel ciclo cross, ma con Elio Fontana è un po' il faro, no, ma è difficile che un ciclo crossista diventi un grande biker, o sbaglio? Beh, oddio, sì, ancora non vediamo, sì, Fontana forse è una perla, però un Dorigoni per esempio che potrebbe in qualche modo spostarsi nel gran biker. va nel ciclo cross, da ammazzate a tutti i ragazzi. Sì, sì, è una questione un po' anche di motivazione, di voglia, no? La strada attira, c'è poco da male. Certo, certo, certo. Perché gli esempi, e li vediamo, il Pidcock, che è così, il Van der Poel, che comunque quando va su strada vince classiche, è chiaro che un atleta, insomma, fa da specchio, no? E per questo che delle volte quando abbiamo dei grandi campioni che nel fuoristrada tirano, le generazioni di quel settore aumentano. Certo. In Francia ne abbiamo l'esempio, l'Apsalone e altri prima che ha vinto medaglie olimpiche, anche la Prevaux, quindi aspettiamo di vedere, per esempio, un Kersbaumer, quando ha avuto quel periodo che andava veramente forte, si è capito che lanciava e stimolava il movimento. Quando hai questi cali, è chiaro che, insomma, ci sta. Diciamo che il ciclo crossista sta prendendo tanto piede, è un po', il passo lo sta facendo un po', diciamo così, tra virgolette, un po' più sta facendo fatica il mountain bike, rispetto al ciclo cross, io parlo, eh? Beh, eh... Il ciclo crossista sta facendo numeri incredibili, da gran fondo. Sì, sì, ma ci sono i numeri anche nelle fuoristrade, nel mountain bike, è perché... Nella globalità è più del 50%. 54%, 54-55%. Era impensabile vent'ora. Era impensabile, e le discipline si moltiplicano, arriverà il grave fra poco, che è lì alla finestra, prossimo anno probabilmente ci sarà un campionato italiano, prima edizione ci sarà un campionato del mondo, che probabilmente sarà, si dice, in America, ancora non c'è un calendario, però le discipline, enduro, c'è la DH, c'è il pump track, che è una disciplina per i giovani, per imparare a guidare, che è spettacolare. Ma che enti caldo sul discorso del gravel, che poi dopo, alla fine in chiusura, voglio farti un'altra domanda. Mando agli amici del pedale Rivaltesi, campionato regionale Lombardia. Bella anche questa gara, e grazie all'amico Massimo Gallesi. Amici del pedale Rivaltesi, con le immagini siamo sulle valli del Mincio, valido come campionato regionale. Lombardia, insomma, cosa ha di speciale questa gara? Beh, per me evoca un nome che ha fatto la storia del ciclocrossismo italiano. Intanto vediamo i preparativi per questa gara, che ha il suo perché. È vero che ci sono tante gare, una più bella dell'altra. Per me sono tutte belle, tutte meritano il grande rispetto per gli organizzatori che tanto fanno per questo sport, anche quando parrebbe, tra virgolette, gare di minore importanza. Intanto il campionato regionale Lombardo. Dicevo prima, è il grande ritorno. Io è la prima volta che quest'anno lo vado a commentare. Ed è Enrico Franzoi, con la Salese Factory Team, che prende parte a questa Kermess. E intanto vediamo che petardo che pianta subito, con il Dorsale 20, proprio Giacomo Frigili. Non è partito benissimo, però sul Mincio ci sta questo e altro. Allora dicevo che qua c'è il ritorno di un certo Franzoi e la cosa mi commuove e sono molto felice per rivederlo, di rivederlo soprattutto, nelle gare che insomma contano. Questo qua in pratica sono cambiato a Elite Under 23, poi ci saranno i Junior su tutte le categorie giovanili, una bravissima sintesi, dove ci dà il quadro di questa situazione. Tanto il pedale rivaltese organizza, complimenti, quindi è aperto un po' a tutti gli enti. Immagini dall'alto, sempre suggestive, per raccontarci quello che è un po' stata la gara, diciamo, quello che sono state le vere, il vero dominio di uno dell'altro. In questo caso vediamo Gargantini Dario della Guerciotti, sviluppo Guerciotti, che non si smentiscono questi qua, quando sforano qualcuno deve arrivare davanti, ma con un Franzoi, con sempre lo stesso piglio, lo stesso stile. Sembra che faccia sia triste nei pedali, invece dentro sono sicuro che è una gioia di correre ancora incredibile, intatta, esattamente da quel campione che è stato e quindi oggi lo raccontiamo così, con una piccola vena nostalgica, però attribuiamo il presente a lui che è stata la storia veramente del ciclocrossismo italiano. Eccolo qua. Abbiamo Gargantini davanti, Enrico Franzoi subito di dietro, siamo nelle fasi conclusive, a Lodi Lorenzo è in terza posizione, oramai il discorso è tra questi due, Gargantini e Franzoi, Franzoi che sta arrivando non è lontanissimo a Gargantini, prime apparizioni per lui, se la giudica Dario Gargantini e quindi secondo Enrico Franzoi che lo vedremo fra pochissimo, tanto grazie a Gallesi perché quando vedo Franzoi mi si apre il cuore, perdonatemi, Lorenzo Allodi in terza posizione, poi abbiamo Giacomo Salvalaggio in quarta, Carraro, Zecchini, Linetti, Peruzzo, Mazzurega e Novero, questi sono i complimenti da Top Ten e soprattutto Gargantini che è campione. Quindi Lombardo, continuano gli arrivi, poi una piccola escursione su quello che sono state le categorie giovanili, quindi juniores e ragazzi, esordienti e allievi con una bella dose di amatori, hanno fatto una sorta di grande ammucchiata in questo caso, vediamo che partono quasi tutti insieme, ma andiamo a dare soltanto in questa breve sintesi quelli che sono gli ordini di arrivo, parte G6, Invernizzi Perute e Sambi, Yolanda, per quanto riguarda le donne, per quanto riguarda invece gli uomini, Bonatti, Luca, Lanfredi, Belletti, per quanto riguarda la fascia 2, Graziano Bonalda, Corradini, Francesco, Chiaroni, Luigi, gli esordienti, ordine del Rivo, Cerame, Nicola, Acquaviva, Favrovilla e Marangon, donne allievi, quindi Arianna Bianchi, Erisaran Franchi, Piggy Greta, Dallapietà, Marisol e Valeria Terzi. Per quanto concerne invece gli juniores, all'arrivo si è arrivato Matteo Fiorin, Matteo Zucchi, Susanna, scusate, Roberto Sesana, Bortolozzo, Giovanni e Bonalda, Alessandro. E' proprio tutto dalle valli del Mincio, grazie a Massimo Gallesi e bello, sono contento, i ritorni di Enrico Franzoi. Linea di nuovo allo studio. Ultima parte di Scratch, amici, in compagnia di Massimo Ghirotto, ex corridore. Commentatore per Radio Rai, sei sempre in moto con il Giro d'Italia, speriamo di vederti anche quest'anno. Ti farò una domanda anche alla fine. Allora, io volevo fare una provocazione. Il gravel dovrebbe essere... Quando fai le domande a provocazioni mi spaventa un po'. No dai, il gravel è una disciplina emergente, anche perché poi dopo c'è le bike, che sta andando veramente molto, eccetera. Anche questo potrebbe essere una minaccia del ciclo cross, invece se si fa un ragionamento potremmo dire che il gravel è un po' la strada e il ciclo cross è un po' la pista. Non so se mi sono spiegato. Ma guarda... Perché il gravel è parte da A, arrivi a B. Sì, anche qua è un qualcosa che è in evoluzione. In evoluzione non si può. Perché adesso l'UCI ha normato proprio recentemente questa specialità e ha cambiato totalmente la filosofia. Prima noi avevamo delle norme che parlava di bicicletta gravel. Adesso l'UCI dice no, è terreno, è ghiaia. E' par giusto, eh? Però noi avevamo un'idea un po' differente. Anche perché la bicicletta potrebbe essere quella da ciclo cross, con pochissime modifiche. Cambia un po' la sezione delle gomme, è un po' più larga, però l'UCI su questo non fa differenza. Dice per me puoi usare una mountain bike. Anche la graziella, se ce ne hai. Qua sì, però il terreno deve essere quello. Quindi noi abbiamo preso adesso pari pari, perché cominciamo anche noi a capire come disciplinarla. queste norme andranno in approvazione fra poco al prossimo Consiglio federale. E quindi vedremo, il concetto è questo, una filosofia di bicicletta, non di bicicletta, di terreno, usando varie biciclette. Anche di vita, anche di vedere il mondo dello sport. Sì, di aggregazione. Ancora si parla poco di agonismo. C'è stata questa gara sperimentale a Piazzola Superta, che è stata anche bella, per professionisti. Ma qua non si parla di professionismo, si parla di gare. Come dire, massa critica. L'America è un esempio, là fanno numeri pazzeschi. E poi democratica, perché se vuoi fare con le bike, ci posso andare pure io. Quasi. Ecco, sì, sì. Anch'io, con te. Beh, ma te, sei un campione. Torniamo invece al Giro d'Italia, che è la cosa che più ci interessa. Insomma, ci sono ancora lì delle trattative, che la Rai non la mollerà mai. Ma anche perché è l'unica che può farla. Io, a livello tecnico, per tutti fanno i fenomeni, no? Una pay tv col Giro d'Italia vuol dire che anziché nelle grandi tappe da 3 milioni, 4 milioni di ascoltatori, andiamo sì e no a 60, 70 mila. Quelli sono i numeri, non è che lo invento io, eh. No, io credo che, cioè, il Giro d'Italia è l'evento popolare che coinvolge tutti. Dalla donna che sta guardando la televisione, l'appassionato, al ragazzino, e ben venga. Le scuole, è un unico incontro veramente globale. Esatto. Quindi tu ti affacci anche per strada, gli vedi passare, rientri in casa e guardi la televisione. Quindi la Rai, credo, questo è il mio pensiero personale, ha il dovere di poter dare a noi tutti appassionati questo spettacolo che non ci può far mancare. Poi sai, è un questione di business, credo che la Rai si metterà in corsa, penso che stia mettendosi in corsa e io sono convinto che sarà ancora la nostra mamma Rai che ci darà il Giro d'Italia. E quindi i microfoni che lo vedremo a te come Radio Rai, sempre, in moto. Ma non è pesante, quanto pesante è in moto? Beh, intanto se lo farò sarà il mio dodicesimo Giro d'Italia in moto, che è qualcosa che statisticamente insomma dura da tanto tempo. Io sono sempre pronto a dire scendo alla moto e ho fatto quello che ho fatto. però è faticoso soprattutto quando si è brutto tempo. Eh sì, perché il freddo te lo prendi tutto anche là. Beh, sai, se hai un quaderno in mano dove ti prendi nota perché qualcosa, una traccia di un intervento lo devi fare, lì vai a braccio totalmente e bisogna avere un po' l'esercizio di memoria. Però sai, anche quello è il bello, vivere e farlo trasmettere a quelle persone che ascoltano io guardando con i loro occhi. E l'emozione è tanta. È vero, è vero, e poi dopo sei anche a trasmetterla e quindi questo è indiscutibile. Io tanto ti ringrazio, abbiamo parlato dei calendari, il prossimo anno vedremo quali saranno le migliorie. Io ti faccio un in bocca a te, a tutto quanto, l'organigramma della Federazione Cicliste Italiana, ogni tanto con aspetto critico punzecchio perché mi pare anche che sia giusto, no? E quindi io ti vorrò rivedere qua più presto. Quando tu dici, Nicola, io sono libero da A, vieni perché mi fa piacere sempre parlare con te perché sei un po' la storia del ciclismo. Beh, insomma, ti ringrazio, sei troppo buono sempre con me. Io quando vuoi sono disponibile, noi come settore del fuoristrada stiamo cercando di portare le nostre idee, qualcosa abbiamo fatto, stiamo facendo, ci sarà ancora tanto da lavorare, speriamo bene. Diciamo che il suo strato è sempre più pericoloso, per cui... Ah, questo è un altro argomento. Dovremmo approfittare per dare delle chance agonistiche ai nostri ragazzi, perché se no ragazzi non possiamo tenermi sempre con l'iPad in mano, con il telefonino. La risposta è principalmente questa, strutture. Strutture. Ne parleremo di strutture perché è un ambito delicato, sai, quello delle strutture è molto delicato, lo affronteremo, quando sapremo cosa dire, quando uno sa cosa dire, ma siccome la maggior parte dicono delle stupidaggini, piuttosto che dire una stupidaggia è meglio tacere. Parleremo di strutture, grazie. Grazie a voi. A settimana prossima, amici di Scratch. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com